Musica Buon pomeriggio cari amici e cari amiche, eccoci qua ancora insieme. Mi ricordo sabato scorso è stata una trasmissione meravigliosa e abbiamo assegnato i top di Aurora. Oggi purtroppo, per fortuna anche vostra, sono stato coinvolto nella continuazione delle chiusure mandato perché in realtà c'erano altri 40 quadri circa, 38-40 quadri da chiudere il mandato per cui li abbiamo mescolati a quei pochissimi che avete lasciato mercoledì. Quindi veramente, intanto grazie per mercoledì perché c'è stato molto interesse. Quindi noi andremo a dividere per tre, alle volte addirittura per quattro, gli importi che andremo a visionare nel corso di questa trasmissione. La trasmissione, chiaramente poi questa è l'ultima, da lunedì si ritorna a regime normale con le trasmissioni della pittoria dell'Ottocento, anche se qui di pittoria dell'Ottocento ce n'è. Ce n'è, ce n'è. Lì c'è Giulio Musso, Cesare Uva, William Welters. Intanto ricordiamo che al centralino abbiamo Raffaella. Buon pomeriggio Raffaella. Buon pomeriggio a Te Gianfranco. Buon pomeriggio a tutti da Raffaella. Grazie, grazie. E poi abbiamo Ciro Punzo, Giovanni Panza, pensate Giovanni Panza. E poi Edgardo Rossaro, poi c'è, insomma veramente tanti. Leon Giuseppe Buono, Gigi Gomolli, insomma veramente direi tutto a vostro grande vantaggio. Chiaramente in questa trasmissione non può mai esserci il pagamento rateale in 12 mesi a tasso zero. Il pagamento rateale c'è con dei piccoli interessi, intanto con quello che risparmiate dai quadri, hai voglia, insomma voglio dire, è la terza parte, è la terza parte, sì, la terza parte di quello che dovrebbe costare. Se costa mille pagate 333. Poi è chiaro che ci sono le due forme di nostre trasmissioni, quelle con lo sconto 50 e quelle già scontate. Allora, le trasmissioni già scontate bisogna applicare per 2 diviso 3, tipo, ecco questo che è piccolino, guarda, facciamolo con questo qua. Questo è un quadro che è già scontato, vedete che dietro c'è scritto cash, quindi già scontato, ed è un dipinto che noi presentiamo normalmente nell'800. Questo costa 750 euro per 2 fa 1.500, diviso 3 lo pagate 500 euro, sempre se vi piace a casa, non è che c'è l'obbligo di acquisto. Questo invece che è un quadro che facevamo con il 50% di sconto, eccolo qua, non c'è scritto cash, ma il cartellino è normale, vedi liscio, 700, questo va diviso per 3 e non va moltiplicato per 2, per 3. Altrimenti costerebbero o meno quelli dell'800 che quelli normali, bisogna cercare di fare distinzioni, ok? Che noi quando parliamo di trasmissioni dell'800 partiamo sempre col prezzi super scontati, quindi più di così. Poi è chiaro che i committenti invece di riprendersi il dipinto indietro cercano qualcuno, non tutti, parecchi li abbiamo resi, perché poi c'è chi dice no, no, ci penso proprio, ridammelo. E quindi, allora, facciamo una carellata veloce perché poi tanto... Ha chiamato il signor Mario per ringraziarti, ha ricevuto l'attilio Pratella ed è contentissimo. Bene, la cornice gli piace così, come io avevo consigliato, è la cosa migliore, che è l'oro proprio suo, l'oro suo... E hai grande grazie al cuore. Oh, meno male, grazie signor Mario, felice di esserle stato d'aiuto. Allora, Cesare Uva, un bel quadro, un interno di stalla, Giulio Musso, due disegni di Francesco Gioli, William Welters, Gianni Strino, questo è un bravo pissimo pittore del Novecento, Gianni Strino, eh? Nasce a Napoli nel 1953, Ciro Punzo, Giovanni Panza, Giovanni Battista Filosa, bella questo acquerello. La sanguigna del XVII secolo, un paesaggio nevato, una scena fiamminga, Edgardo Rossaro, in questo meraviglioso scorcio della Liguria. Giuseppe Esposito, Leon Giuseppe Buono, scuola partenopea, Ugo Bernasconi, questo è un altro bel quadro, questo è un quadro degli anni venti, Francesco Coleman, Giovanni Colmo, Giovanni Borgonovo, Achille Formis, Achille Formis. E poi c'è Vincenzo Canino, Vespasiano Quarenghi, questo è bravissimo, questo si chiama, non me lo ricordo mai, vabbè poi lo vediamo, adesso mi sfugge, eh? E il numero 33, Bergamini, 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 Luigi Bergamini, questo è un pittore che è stato allievo di Fergola, Gaetano Vitale, Tonino Manna, Leon Giuseppe Buono, questa scuola, questa scuola meravigliosa del Lombarda, dell'ultimo quarto dell'Ottocento, questo è un altro grande pittore che mi sfugge in mano, ho visto un paio di volte col 50, il 39, chi è, aiutami? Colli, Pietro Colli mi pare, Pietro Colli di Alessandria, sì, poi abbiamo questa Innevato, Gravina, Pecoraro, Comolli, Brunone, Bello, Federico Alfano, Tiratelli, no Tiratelli, Giulio, si chiamano tutti i Nelli questi, Tadolini, Inini, Inini, sono sbagliato, Nelli, è Inini, Tadolini e poi, questo mi fa ridere, quindi mi vorrei raccontare una storia, questo è un quadro che avevo assegnato mercoledì e questa gentilissima persona ha detto no, no, voglio il vetro, voglio il vetro, voglio il vetro, allora mettere un vetro a questo dipinto bisogna portarlo dal corniciaio, siccome poi lunedì ci sono le partenze, allora, chi va dal corniciaio, chi va dal corniciaio, io ero sfinito, distrutto, sono andato io, ho fatto mettere il vetro, il corniciaio ce l'ha riportato perché era l'orario di chiusura ieri pomeriggio, stamattina candidamente questo carissimo amico, non lo voglio più, quindi per colpa di qualcuno il vetro non viene messo più a nessuno, a nessuno, soprattutto sulle misure grani, sui piccolini sì, purtroppo nella vita per colpa di uno ci rimettono tutti, chiaramente questo soggetto, non so chi sia, è squalificato a vita, a vita, eh? Sì, a vita, a vita tesoro perché ha recato disturbo innanzitutto a me, quindi non va bene, allora andiamo sulla uno e andiamo, eh tesoro mio, questo lo dovevo dire perché me lo dovevo sfogare, perché poi non è che poteva chiamare l'altro ieri che non c'era il vetro, appunto non è mai più nuovo, è già appassito, allora, è bene che chiami altri emittenti, dia fastidio ad altri emittenti, ce ne sono tante, ce ne sono quelli che hanno tutti i quadri per terra, vogliate, 100 euro l'uno e via, eh? Non ricorderò, perché hai il numero di Dero, all'Eno? Oh, ma è coglione! Allora, qui abbiamo il numero uno, Rick Van Kegelberger, è una natura morta, lui nasceva nel 1923 e morto negli anni 90, misura 70 cm per 60, cominciamo a parlare subito di prezzi, un bel quadro, è un vaso di margherite e fiori rossi, Cardi dici che sono? Non lo so, poi ci sono le mele anche sotto, firmato in massa è un'opera degli anni 70, costava 900 euro, cominciamo subito con un bel diviso 4. Si scende a 225 euro. Benissimo, chiaramente l'altoparlante è un'opzione, ma ormai è già da tempo. Allora, 225 euro finale, è un olio su tela davvero molto bello, non lascialo così, lascialo così, non c'è problema. di grande qualità, di grande qualità. Settà, eh? Eh, bisogna cambiarlo, bisogna fare sta spesa di 200-300 euro, eh? Bene, allora, ce l'ho io a casa, un amplificatore, porto il mio di quando avevo lo stereo, quando ero giovane, ce l'ho ancora, se vuoi ti porto quello, ma insomma basta che risolviamo questa pratica. Al numero 2 cominciamo a vedere un pittore dell'Ottocento, Giuseppe Uva, Giuseppe Uva, questa giovane panciulla che mangia le gustosissime cozze. Giuseppe Uva nasceva a Napoli nel 1847, glielo bene dico, è morto a 90 anni nel 37. Questa è un'opera tra la fine dell'otto e il primo decennio del ventesimo secolo. Lui si rifaceva ai pittori del Seicento come Giovanni Battista Ruopolo, Andrea Belvedere. Era specializzato in due porte soprattutto e soprattutto per i tratti femminili. Frentò l'Accademia delle Belle Arte di Napoli, si parte le più importanti mostre della pomodrice Salvatore Rosa e della pomodrice napoletana. L'opera misura 40 cm per 50 e un olio su tela, c'è anche l'espertise di un periodo di tribunale, costava 800 euro scontato, per due fa 1.600, 1.600 diviso 3 fa 533 euro. 533 euro. Mi auguro che lo sentano a casa, io non sento nulla. È importante che vada a casa, non c'è problema. No, 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 ti fai male, lascia stare. No, 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 non ti preoccupare. Stai sereno. Andiamo tranquilli così. Oggi è un sabato italiano. È un sabato italiano. Chiaramente, signore, è l'ultima chance. Poi è chiaro che le chiusure di mandato, stante così le cose, ci saranno a ottobre, adesso andiamo verso l'estate. Tra l'altro non è che c'è tutte le cose che abbiamo, grazie a voi sono tutte arrivate da poco. I mandati ci vogliono due, tre, quattro mesi. Quindi se ne parla, siamo a maggio, praticamente tutto maggio, tutto giugno, tutto agosto. A settembre li rivedremo. Quindi questa è veramente l'ultima spiaggia. Fa ripetere l'opera di Cesare Uva, scusate, Giuseppe Uva, Cesare il fratello. Erano due fratelli che dipengono. Questo è un bel quadro, eh? 40 per 50, olio su tela. Guarda che meraviglia. Al numero tre troviamo Giulio Musso. Questa è Piazza delle Erbe a Verona. È bellissima quest'opera. È un acquerello su cartoncino del primo decennio del ventesimo secolo. Lui nasceva ad Asti il 4 marzo del 1851. Ivi moriva il 14 giugno del 15. Pittore romantico, ritrattista e anche di scene di genere e di esterni. Si rifece alla scuola di Mosè Bianchi e apprese lozioni artistiche presso lo studio di Rucagamba a Torino. Partecipò all'esposizione generale italiana del 1898 a Torino e nel 1901 gli fu commissionato il sendallo per la colza del Palio di Siena. Frequentò l'Accademia Albertina e espose anche le promotrici genovesi e torinesi. Questo bell'acquerello che raffigua appunto Piazza Erbe a Verona una piazza più bella d'Italia secondo me, la conosco bene 46,5 per 65,5 vanno in affidamento ad una cifra veramente piccola che è di 800 euro scontato per due famisei 1.6 diviso 3 533 533 Sboppare a carattenti 24 x 24 meri ok? Blissmora di Giulio Musso Signori, io mi consiglio di venire è chiaro che poi voi vorrete vedere tutte però se le vedi tutte poi ne perdi la metà perché qualcuno più veloce dell'altro c'è Bella davvero questa opera di Giulio Musso deliziosa deliziosa queste sono trasmissioni che noi facciamo Gattis per i nostri committenti che cercano di monetizzare noi cerchiamo di capire anche il momento la situazione ci dispiace di dargli indietro il quadro le stiamo offrendo a cifre che sono sescamente piccole è chiaro che chi mastica un attimino di pittura è chiaro che si rende conto che sono cifre impossibili io lo dico a vostro vantaggio questo la conice è stata esterna della sua il passepartout è stato di fatto c'è il vetro perché è un acquerello a 530 euro insomma qui abbiamo un bell'interno di stalla di Armando Romano pittore che nasce a Napoli nel 1952 è un pittore utile nel senso che ha varie sortistiche che fa anche delle belle mine, delle belle venezie dei bei saggi ma è capace come in questo caso realizzare un interno di stalla che circonda molto la grande scuola di Palizzi in particolare Filippo direi qui avevamo due mucche, una pecorella e una stalla 50 per 70 euro è un olio su tela costava 1600 euro da scontare quindi di conseguenza dividiamo per 3 e diventa 533 euro neanche a farlo apposta senza volere 3 quadri tutti allo stesso prezzo il 2, il 3 e il 4 il 2, il 3 e il 4 signori mi raccomando perché è tutto a vostro grande vantaggio è chiaro che persone di buon senso come siete sempre voi è chiaro che lo capite al volo questa è un'opera che no, questa c'era quella sotto no le altre tre no vedete che sono più quelle inedite chi ha visto la trasmissione l'altro giorno che quelle che c'erano per esempio la numero 5 guarda questa bella scuola toscana degli anni 50-60 misura 50 per 40 è un paesaggio con un borgo dei personaggi l'opera mi pare che sia pure firmata da qualche parte però non riusciamo chi ce l'ha detta non ci dette indicazioni noi non vogliamo inventare le firme ed è un 50-40 d'olio lo promuoviamo a 700 euro da scontare oggi pensate che va diviso 4 senti quanto viene 175 euro 175 euro credetemi signori cari non è neanche il valore della cornice salvatorrosa in foglia oro vedete non comprate la cornice quindi il quadro è regalato 175 euro finale è chiaro che tale cifra non può essere pagata non può essere pagata a rate è chiaro però se prendi 3-4 quadri perché qui dei quadri da 100-200-300 euro ce n'è puoi fare la teale accumulando questo è il numero 5 scuola toscana bella 50 per 40 175 euro eh si chi è pepe ah quale aia allora e vabbè si ferma lì allora andiamo avanti e andiamo a vedere l'otto numero 6 una coppia di disegni a matita di un grande artista rimaniamo in Toscana andiamo a San Frediano a settimo località nella quale nacque Francesco Gioli sono due disegni a matita che misurano 9 cm per 13,5 e 10 per 15 sono dei primi anni del ventesimo secolo non sono firmati ma sono certamente certificati Francesco Gioli costavano 400 euro scontati per due diventa 800 euro diviso tre fa 266 euro ecco due disegni di Gioli a 133 euro l'uno due disegni di Francesco Gioli a 133 euro l'uno Francesco Gioli è stato un pittore che è stato proprio molto molto vicino alla pittoria dei macchiaioli toscani signori miei qui siamo a una cifra folle tutte e due i disegni a matita con le cornicette uguali 266 euro state attenti a non perdere queste soluzioni davvero esaltanti falle rivedere due gioiellini di Francesco Gioli pensa che c'è chi ha gli altri due che erano grandi uno credo due persone diverse erano quattro disegni due firmati e due no questi sono i due firmati li abbiamo lasciati così perché erano la stessa dimensione era brutto fare uno e uno uno grande e uno piccolo quindi demmo i grandi separati a 400 euro e i due piccoli a 400 euro ma adesso vengono 266 al numero 7 William Welters è uno scorcio probabilmente dell'isola di Capri una tavoletta degli anni 30 lui nasceva a Rotterdam nel 1881 e morto a Bordighera nel 72 è riseduto per molti anni in Italia grande artista la tavoletta misura 19,3 x 40 la cornice in stile davvero graziosissimo costava 750 euro scontato per 2 fa 1.500 diviso 3 fa 500 euro anni 30 anni 30 William Welters William Welters guarda che meraviglia vi voglio ricordare che ogni dipinto è accompagnato dal regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge numero 7 al numero 8 qui abbiamo un bel paesaggio Lombardo questa ha preso aria nell'alta Puglia che lì si accellera buona degli anni 30 paesaggio lacustre l'opera misura 40 cm x 60 olio su tela costava 750 euro oggi diviso 3 scaduto il mandato 250 euro ecco neanche il valore della cornice qui non pagate la cornice certo bisogna saperle queste cose c'è chi magari purtroppo non conosce bene 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 i valori e allora magari può incontrare qualche difficoltà direi in molti eh davvero deliziosa a 250 euro super scontata 40 x 60 una bella misura per chi la cerca un'opera medio grande ad una cifra davvero irrisoria al numero 9 cominciamo a vedere qualche quadro di un certo tipo Gianni o Giovanni Strino nasce a Napoli nel 1953 assolutamente ancora vivente ha insegnato a dipingere anche a sua a sua figlia Francesca avevamo delle opere le abbiamo vendute tutte qui abbiamo un Deblian che è l'ultimo che abbiamo il vero regalo di opere che lui ha realizzato insieme a sua figlia Francesca ecco questa è un'opera di Gianni Strino vedete a fine a fine catalogo c'è tutta la biografia di Gianni Strino eccolo qua vedete nasce a Napoli nel 1953 c'è tutta la biografia e dietro tutte le mostre e le personali e collettive a cui ha partecipato dal 1968 al 2011 insomma abbastanza addirittura è stato nel catalogo d'aste Cristis è stato ha partecipato anche alle aste di Cristis quindi un artista importante questa è un olio su tela 60 cm per 60 il titolo è lo specchio dietro c'è il certificato di garanzia del maestro Gianni Strino è un'opera che noi davamo ad una cifra ridicola perché la vendevamo a 2250 euro scontata 2250 per 2 fa 4.500 4.500 diviso 3 sprofonda a 1500 euro signori io credo non ci siano parole per magnificare la bravura uno dei grandi pittori napoletani del novecento perché vi ho detto già tante volte che anche nel novecento ci sono ancora c'erano grandi artisti questo è un artista strepitoso lo specchio questa ragazza seduta questa poltrona che si riflette sullo specchio quindi ha fatto due figure l'opera è anche pagabile con 33 euro mensili 33 euro al mese 33 euro al mese siate rapidi siate veloci siate tempestivi ok Gianni o Giovanni Strino olio su tela 60 per 60 al numero 10 Giovanni Panza Giovanni Panza che bel quadro metà del ventesimo secolo è un olio 55 per 35 è uno scugnizzo che ha un angolo di una piazza mercatale vende il pesce vende un venditore di pesce alla stadera a quella cesta di pesce e cerca di arrotondare gli angoli caratteristici c'è la vecchia Napoli Giovanni Panza nasceva a Napoli nel 1894 ed è morto nell'89 l'opera che state vedendo è certificata ed espertizzata da un perito del tribunale è un'opera molto molto bella molto molto bella tra l'altro è l'unica opera pensate che abbiamo di Giovanni Panza non ne sono più incapitate e l'avete anche in sconto folle e questa è un'opera che proverevamo a soltanto 1500 euro già scontata 1500 per 2 fa 3000 ma 3000 diviso 3 fa soltanto 1000 euro per un'opera firmata certificata e espertizzata degli anni 50 del grande maestro Giovanni Panza Giovanni Panza eccolo qua eh dai sì 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 oggi poi eh sono contento oggi so a parte a parte il vetro sono contento a parte il vetro sono felice eh 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 e te l'ho detto perché sto bene eh hai detto niente tesoro eh hai detto niente eh Giovanni Panza Giovanni Panza con 22 euro mensili poi perché sono in trattativa con un amico per uno smargiassi forse la cosa si fa smargiassi era una vita che non avevamo chissà chissà vuole tre occhi della testa ma insomma eh ha ragione tra l'altro un bellissimo smargiassi questa è un'opera da confermare ipsofatto proprio eh ipsofatto a mille euro mentre al numero 11 abbiamo proprio un pittore di pieno ottocento che si chiama Ciro Punzo si chiamava perché nasceva pensate nel 1850 e moriva nel 25 nasceva a Napoli nel 1850 lui si chiamava Ciro Punzo nasceva il 14 febbraio del 1850 fu allievo eh della Canemere Belle Arti Napoli Giuseppe Mancinelli si detta la pittura di interni e facendosi apprezzare le varie mostre a cui partecipò ma era anche bravo come paesaggista e pittore figurativo esordì giovanissimo a soli 16 anni la promotrice Salvatore Rosa eh quindi la prima sua mostra fu nel 1866 e continuò questa mostra fino al 1911 eh poi espose a Milano nel 72 a Vienna nel 73 ancora a Napoli nel 77 a Milano nel 1881 a Roma nel 83 a Bologna nel 88 a Torino nel 1896 l'opera che state vedendo è datata 1877 1877 1877 1877 Ciro Punzo misura 53 per 27 un olio su tela la cornice è la sua originale questa non è in stile questa è la sua originale pensa che bella costava soltanto 1800 euro qui c'è la firma e la data del 1877 costava 1800 scontato per 2 fa 3006 3006 diviso 3 fa 1200 euro soltanto 1200 euro l'opera di Gianni Strino è confermata dal signor Giovanni complimenti Giovanni quello è un bellissimo Strino eh questo è un meraviglioso veramente meraviglioso Strino guarda che meraviglia eh eh meraviglia guarda che meraviglia quattro volte guarda che favola bellissimo 1200 euro questo per esempio potrebbe costare anche 27 euro al mese no eh certo ci mancherebbe tesoro è un quadro che ha 144 anni c'è bisogna ricordare di dare il Deplian al gentile amico Giovanni eh mettitelo qua no no perché è l'unico che abbiamo non lo voglio perdere c'è tutta la vita pittorica per le opere di sua figlia i sceni biografici della figlia eh non è caduto il numerino niente allora abbiamo detto che femo signori oh signori questa è la parete dove ci sono i quadri più belli eh forza 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 perdete un'opera di Ciro Punzo a 1200 euro panza a 1000 euro no andiamo a vedere questa meravigliosa sanguigna è una tecnica pittorica che veniva adottata è stata adottata un po' in tutte le epoche negli ultima epoca un pittore che io ricordo che amavo molto figurativo era il grande Pietro Annigoni specializzato in fiamminghe questo è un dipinto del 600 intorno al 1660 è una fiamminga su carta misura 44 per 28,5 il personaggio raffigurato e San Giovanni Battista si tratta probabilmente di un'opera presa da una scultore Domenico Pieratti nato a Firenze nel 1600 e morto a Roma nel 1656 nell'esemplare del San Giovannino al Metropolitano Museo di New York Bella Sanguigna costava 1500 scontata ed è un miracolo per 2 fa 3000 diviso 3 fa 1000 euro anche per questa opera siamo nel ripeto nel XVII secolo 1660 1670 a grosso modo come epoca signori sono prezzi impossibili no, 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 no tesoro no, no, no questa è un'opera che a 1000 euro dovrebbero fare salti di gioia ripeto nessuno di questi dipinti è possibile in queste trasmissioni se noi cioè il committente si svena ragazzi ma mi rendete conto a quanto pagati i quadri c'è un Giovanni Panza a 1000 euro è chiaro che non possono affrontare anche il 12 mesi a tasso zero perché costa un altro 10% circa non è possibile il rateale c'è per chi vuol fare fatelo in 12 mesi con quello che risparmiate ragazzi miei viene a costare niente ma ripeto qui tra l'altro su questo e su questo c'è anche l'espertise di un periodo del tribunale anche questo è periziato da un periodo del tribunale cioè sono opere di qualità sono opere importanti e ancora come dire giovane poi oggi è un sabato un po' particolare e lo spartitraffico perché lunedì siamo tutti liberi a parte la Sardegna poveracci che sono rimasti rossi chissà perché poi l'hanno fatto i bianchi hanno risposto però noi arancioni facciamo ridere proprio perché qui è un lazzaretto qui in Puglia ma comunque rivediamo 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 la 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 no non funziona qui la sanità stenta molto stenta molto dimmi sì praticamente sì il nostro libraio non ha capito bene ha detto che va a pesca ma non ha capito niente allora andiamo avanti e andiamo a vedere l'opera numero 13 guardate che bello questo acquerello di Giovanni Battista Filosa questa è un'opera che io amavo tantissimo l'avete mandata in chiusura mandato è datata a 1906 lui nasceva lo stesso anno di Punzo nel 1850 ed è morto però dieci anni più tardi nel 35 frequentò l'Accademia delle Belle Arti a Napoli e poi a Roma esordì la promotrice partenopea nel 1867 e in seguito si fece apprezzare soprattutto per la curata abilità nel realizzare i suoi acquerelli infatti questo è un acquerello io credo siano i giardini del Palazzo Reale di Napoli credo ma non ne sono sicuro l'opera misura 50 per 36 1908 mi pare giusto Mino? lo vediamo l'anno a sinistra o 6 o 8 8 8 bellissimo poi esposa ai saloni parigini pensate nel 1874 e 1882 partecipò alle mostre di Torino del 1880 e a Roma nel 1895 alla Biennale Veneziana del 95 la prima lui già c'era allora concludendo l'opera costava 1300 euro scontata pochissimo per due fa 2006 diviso tre però scende precipita a 866 euro 866 euro cash flash finale scontato la paghi con scusate si la paghi con 21 per 48 21 per 48 mesi signori miei è una cifra davvero irrisoria è un giardino è una è un giardino una scala in un giardino in un verde giardino scendono questi personaggi guarda i gradini le 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 pietre che compongono la pavimentazione della scala ma anche il vaso lei com'è lei e lui cioè è un'opera le le signore che salgono la scala mi sembra un bell'acquerello non siete d'accordo giovan battista filosa comprate qualcosa del genere a 866 euro io non credo non credo davvero io non credo non credo davvero andiamo avanti perché tanto è solo una questione di resistenza questa trasmissione ci vogliono i polmoni nel senso che bisogna sempre ripetere le stesse cose misura e prezzo misura e prezzo misura e prezzo per fortuna che la facciamo una tanto perché se no non ho più il fisico per farle queste trasmissioni di routine perché qui qui sì io su certi pittori vi narro appunto le gesta pittoriche che poi a qualcuno le apprezza qualcuno anche no è il regno dei curiosi sai quanto costano però li vedete oggi non li vedete più perché tutto ciò che rimane parte va via li rendiamo ai proprietari legittimi quindi non dice non mi dire ci penso perché io già domani mattina alle 8 sono qui e faccio tutti i resi rendo tutto 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 anche perché per me è molto faticoso fare questa trasmissione e poi non è remunerativo da parte di Aurora perché hanno già pagato gli spazi espositivi glieni chiedi altri sarebbe scorretto noi insomma cerchiamo di dare un colpo alla botta e uno al cerchio e accontentare un po' tutti qui abbiamo una bella scena di taverna di scuola fiamminga è un'opera degli anni 30-40 oserei dire è una tela che misura 50 cm per un metro giusto? ecco ci sono questi allegri personaggi fiamminghi che si sono riuniti per questo questa bevuta più che cena c'è una taverna c'è il camino c'è un po' tutto eh eh ulla va qui leggo un prezzo che è proibitivo ragazzi come si fa come si fa l'opera costava pensate 1.800 li vale alla grande tra l'altro è grande 50 per un metro olio su tela eh è stata divisa per 4 450 euro tutto il dipinto a casa vostra se vi piace 400 no questo ve lo porta non possiamo spedirlo perché è troppo grande e peso insomma eh quindi è venire un nostro incaricato perché noi consegnavo da 500 euro in poi eh bellissima quest'opera eh eccoli qua questi personaggi vedi eh direi fumantini perché quello di sinistra ha la pipa sullo sgavello quello di destra invece la fuma eh l'oste versa il il vino e quello centrale invece è appensierato un po' i pensieri eh bel quadro anni 30 insomma un bel quadro anni 30 anni 40 è un quadro che ha 80 90 anni signori miei a 450 euro io dico che io dico che non trovate assolutamente nulla ma al 15 eh beh al 15 siamo a quei livelli eh perché qui abbiamo un'opera di un maestro olandese Lucien Den Arend nasce nel 1943 ancora vivente la firma in basso a destra è un'opera che ha fatto nel suo periodo giovanile perché è del 1965 Lucien Den Arend misura 65 per 91 olio su tela ascoltatemi bene perché qui eh è un prezzo ripeto io non ci credo costava mille euro anche quest'opera viene divisa per quattro 250 euro una stampa del poligrafico dello Stato costa di più una stampa di della costiera amalfitana una stampa del del Salento una stampa del Duomo di Milano una stampa del Colosseo costa di più fatta dal poligrafico dello Stato di questa dimensione col vetro e la cornice questo è un olio è un paesaggio innevato probabilmente dell'Olanda con il cielo il cielo rosato la cornice è in legno non è metallo è in foglia argento è in foglia argento è legno 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 te lo portano a casa no è grande anche questo 65 per 91 tesoro olio su tela 1965 non male è un dipinto che ha più di 50 anni giusto ne ha 56 di anni poi al numero 16 troviamo il mare il mare raccontato da un importante pennello quello del maestro Edgardo Rossaro e adesso oggi sono timidi il sabato chissà dove vanno chi lo sa nasceva in Vercelli il 7 marzo del 1882 moriva a Rapallo 90 anni più tardi nel 1972 i primi ridimenti dell'arte furono appresi attraverso suo papà Ferdinando che era un ottimo artista poi si recò a Venezia per studiare all'Accademia Revelle Arti sotto la guida di Luigi Nono e poi da Venezia si spostò a Torino all'Accademia Albertina e lì fu allievo di Pier Celestino Gilardi e Andrea Tavernier espose la prima volta nel 1904 e poi nel 1906 poi nel 22 dopo la guerra durante la guerra rimase fermo perché perse tutte le sue opere che fu bombardato il suo studio di pittura e riapparve nel 20 all'esposizione di Ferrara e nel 22 la primavera in Fiorrentina partecipò anche a una biennale vinalese l'opera che state vedendo è del primo quarto del ventesimo secolo siamo intorno agli anni 20 25 è una tavola che misura 70 centimetri per un metro ad olio è un'opera veramente di grande qualità materica bella firmata la cornice è la sua signori se io vi dico quanto pagate questo dipinto io ho vergogna lo devo dire per forza perché qui le vediamo solo oggi è inutile che indovinate il prezzo o lo chiedete se vi va è così se no li mettiamo via e li rendiamo al proprietario costava 1.800 che è una cifra penosa questa è un'opera 3.500 perché un buon pittore Edgardo Rossaro i 1.800 vengono moltiplicati per due andiamo a 3.600 il proprietario del dipinto è diviso per quattro l'ho voluto si scende a 900 euro ma la cornice la cornice costa 1.500 è la sua una cornice antica così di loce con la radica ebano e radica costa più di 900 euro la tavola è regalata vedete un attimino voi 900 euro per questo splendido scorcio del mare della Liguria la signora Bruno una volta ci disse pure che l'ogletà era ma non me la ricordo più perché poi è stato fermo perché è andato in chiusura mandato è un bel quadro 70-100 la tavola poi con la cornice con la cornice si va io credo a 140% per 90 90-140 circa sì tesoro non andiamo mica di fretta tesoro che io non ho problemi io devo fare le 7 quindi non ho problemi no più delle 7 no quindi con calma ci arriviamo pensate a 900 euro bravi fate bene bravi pensate pensate andiamo avanti al numero 17 Giuseppe Esposito un bel cascinale nella campagna napoletana è un altro 70 cm per un metro olio su tela bello il gioco di ombre che creano questi alberi al contrasto col sole vedete che filtra il sole attraverso riflessi farà una foglia e l'altra sul sentiero poi sullo sfondo c'è questo cascinale questa casa belli colori vivaci è un'opera degli anni 90 del 900 pittore che nasce a Napoli se non ricordo male nel 45 è un quadro moderno comunque 70 cm per un metro olio su tela costava 1800 euro diviso 3 fa 600 euro 600 euro signori affrettatevi datemi retta ma ripeto io lo dico unicamente per voi io lo dico unicamente per voi signori cari io lo dico unicamente per voi siamo ad un livello di prezzo davvero davvero piccolo davvero contenuto davvero irrisorio oserei dire eh quindi eh 600 euro lo si può pagare con 20 euro al mese per 36 mesi poi ripeto il resto viene da sé eh della serie è un quadro che si commenta da solo no no questo ve lo consegnano a casa gratis è ovvio che c'è un grande sconto ma rimane tutto fermo nel beneficio di gradimento eh non è che siete obbligati eh ad acquistare se il dipinto non dovesse casomai essere di vostro gradimento eh rimane fermo sempre la possibilità di visione gratuita a casa vostra mi sembra che siamo a cifre molto piccole eh l'avete preso il caffè doppio triplo svegliatevi eh andiamo avanti andiamo a vedere questo pescivendolo questo giovane pescivendolo di scuola partenopea somiglia molto a Ermogene e Miraglia ma non essendo firmato non possiamo azzardare certamente è un classico giovane pescatore che vende del pesce dei polpi eh è un'opera degli anni 50 60 oserei dire è sulla sinistra non ci sono dei polpi che fuoriescono i tentacles dal secchio eh anni 50 60 misura 65 per 44 udite udite costava 1000 euro diviso 4 si scende a 250 euro 250 euro possibile che siamo io te e Mino l'ascolto opera numero 18 scuola partenopea a 250 euro 250 euro finale vi ricordo che tutte le opere sono accompagnate dal regolare certificato di garanzia autenticità a norma di legge approfittatene signori lo dico una volta sola non ve lo dico 2 3 4 5 poi lunedì quando facciamo l'800 non mi dite se c'è lo sconto perché poi grido eh poi non dite che sono nervoso che sono eh lo sconto c'è oggi su queste 54 opere ok bene al numero 19 Leon Giuseppe Buono un notturno sembra Venezia ma potrebbe essere anche Pozzuoli la sua amata Pozzuoli è un 50 per 40 degli anni 40 Leon Giuseppe Buono nasceva a Napoli nel 1887 anzi a Pozzuoli nasceva nel 1887 e morì a Napoli nel 75 frequentò l'Accademia delle Belle Arti e esordì giovanissimi mostre collettive e personali con opere che destarono subito l'ammirazione e il plauso degli amatori e dei critici ottenendo numerosi premi fece mostre in tutta Italia ma anche nelle capitali europee addirittura in Australia in Giappone parecchi dipinti si trovano in mostre in collezioni private in poi in tutto il mondo poi andò a vivere a Pozzuoli che era la sua città di nascita questo è un bel 50-40 ha insegnato anche per molti anni all'Accademia delle Belle Arti questo lo proviamo in pari a 850 euro scontato per 2 fa 1.700 diviso 3 fa 566 euro per bacco eh soltanto pensa un Leone Giuseppe Buono 50-40 ha 566 euro 566 euro eh sì bella opera di Leone Giuseppe Buono Buono un cognome una garanzia tesoro eh un cognome una garanzia buono eh buono di nome di fatto buono come il pane eh tesoro io fretta non ho eh andiamo a vedere un olio di Ugo Bernasconi questo è un gran pittore è un'opera del primo quarto del ventesimo secolo è una natura morta 50 per 60 olio su tela lui nasceva a Buenos Aires il 21 maggio del 1874 è morto a Cantù il 2 gennaio del 60 eh lui si recò giovanissimo a Parigi nel 1899 e frequentò lo studio del pittore Eugène Carrière da cui riprende il tono intimistico per i suoi quadri con scene familiari e paesaggi è confermata l'opera di Leone a monocromo lo stile sfumato leonardesco poi andò a vivere a Cantù a partire dal 1918 eh e dopo la prima guerra mondiale la sua produzione prende spunto da azione pittorica italiana quindi questo è certamente un quadro di quel periodo partecipa a mostre eh nel novecento tra il 26 e il 29 dal 31 al 39 partecipando alla quadrennale eh alle quadrennali romane e nel 42 vince il gran premio alla Biennale di Venezia pensate un po' ha vinto un gran premio alla Biennale di Venezia qui c'è su internet la sua foto Ugo Bernasconi con Don Cesare Angelini vedi puoi vedere il pittore vecchietto già muore nel 1960 confermata l'opera di Leon Giuseppe Buono grazie questa la togliamo eccolo qua guarda che bello costava 2000 euro soltanto scende a 666 euro 666 euro primo quarto del ventesimo secolo questa è una committenza che hai fatto tu Raffa eh sì eh guarda che meraviglia questa l'ha fatta me lo ricordo benissimo la nostra Raffa Ugo Bernasconi Ugo come fai a non vendere Ugo tesoro eh ma stai scherzando guarda che meraviglia 50 no la cornice è più giovane certamente è una cornice degli anni 80 credo ancora col passport in tela la contro cornicetta eccolo qui ciclato Ugo Bernasconi certificato la cornice è moderna la tela è antica eh vedi il telaio pure primo quarto eccolo qua vedi gli anni si li puoi mettere 600 non mi sembra un prezzo oneroso voi che dite signori vale 666 euro natura morta così ma non di Bernasconi di di pizza balla di uno sconosciuto costa di più tesoro mio ma avete idea di quanto ma io vorrei è una domanda alla quale io non avrò mai una risposta ma qualcuno di voi conosce realmente i valori della pittura perché io vedo che molti di voi purtroppo brancolano nel buio è vero eh ragazzi mei io adesso onestamente siamo al 20 sono state su 20 opere confermate due questo dovrebbe essere orario clou perché poi escano tutti perché è chiaro dopo le 4 4 e mezza e che aspettate il treno a meno di non li vedete più perché li rendiamo non sono nostri questo quadro non è nostro questo non è nostro li rendiamo non li vedete più poi ci sono i quadri normali poi quando chiedete il prezzo di qualcosa oddio 3 mila oddio 4 mila oddio 1.800 eh e allora adesso costa tutto poco 2.50 2.50 4.50 1.000 8.66 quant'era mi sembra che siete proprio ingessati fermi bloccati 5.33 5.33 5.33 il 2 il 3 il 4 che famo andiamo avanti Francesco Coleman grande acquarellista romano nasce a Roma nel 1851 mora nel 18 è un acquarello 44 per 76 della fine dell'800 firmato in basso a destra Francesco Coleman figlio del maestro Charles Coleman inglese e fratello di Enrico Coleman che era il presidente dei 25 della campagna romana gran quadro gran bella opera è una è un cortile un'aia piena di elementi piena di verdure sparse ceste guarda questa popolana con la zucca in mano è un'opera bellissima pensate che noi avevamo avuto in affidamento a 1.500 scontata per 2 fa 3.000 la proprietà diviso per 4 scontata viene 750 euro io non ci voglio credere la cornice è la sua la sua quella che aveva col passepartout in velluto rosso rosso scuro non è nero è rosso bordeaux 750 euro per francesco coleman francesco coleman da roma pittore che frequentò l'accademia di san luca e anche l'accademia di gigi fu un grande artista davvero l'opera è di straordinaria qualità io proverei io fossi in voi sinceramente sinceramente proverei eh eh sì eh no no fine 8 senza primi 9 solo fine 8 questo è 1890 95 questo è un bel pezzo ragazzi forse i nostri amici ogni tanto si distraggono eh non lo so anche perché non so cosa ci sia a quest'ora non c'è nulla di così è vero tangibile importante tante che ne so eh però boh fate un po' voi eh coleman coleman e coleman ragazzi mi abbiamo venduto le figurine a 800 euro 20-30 andiamo avanti Giovanni Colmo adesso torniamo indietro il 27 torniamo indietro Giovanni Colmo da Torino un paesaggino delizioso misura 24 cm per 30 1930 1940 Giovanni Colmo nasceva a Torino il 13 maggio del 1867 e vi moriva il 24 aprile del 47 la sua pittura è legata ai canoni paesaggistici piemontesi dell'800 fu un assiduo espositore al Circo degli Artisti di Torino partecipò inoltre a edizioni della quadrennale torinese e poi altre mostre un po' in tutta Italia 24 cm per 30 olio dietro c'è un'attentica di un perito di un esperto Beldi Zaverio Beldi Zaverio Zaverio con la Z ora lo faccio vedere costava 600 euro già scontata per 2 fa 1.2 diviso 3 fa 600 euro 400 euro scusate vedi opera autentica originale del pittore Giovanni Colmo Torino 1867 47 in fede Beldi Zaverio datato 28 ottobre 2005 a Torino Zaverio Beldi eccolo qua la cornice è quella che aveva certificato garantito Giovanni Colmo 24 per 30 presenta un paesaggio che dà al lago perché qui c'è il lago questa casa sul lago Bellina a 400 euro finale Giovanni Colmo Giovanni Colmo io mi son perso con il biliardo ieri sera che c'era o Sullivan che mi piace e la partita lunghissima l'ho perso non l'ho visto eh tesoro mio questa è bella Giovanni Colmo allargati un attimino falla vedere beh 400 euro non c'è da pensare guarda questo notturno della scuola partenopea guarda questo notturno questa eh questa scogliera a picco sul mare è una scuola di posilipo degli anni 40 davvero direi eccitante misura 45 per 36 olio su tela applicata a cartone costava 500 euro diviso 3 fa 166 euro finale 166 euro finale signori neanche la cornice pure neanche la cornice pagate eh 100 eh vabbè ma se non risolvi come ho fatto io tesoro mio io credo che non ci siano eh situation eh differenti eh non ci siano eh davvero situazioni diverse signori andate tranquilli andate sereni eh datemi 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 retta eh al numero 24 abbiamo un paesaggio davvero delizioso fluvialo fluviale del maestro Vittorio Carrese è un'opera degli anni 60 18 per 24 olio su tavola costava pensate 400 euro diviso 3 fa 133 euro soltanto ma pensate 133 euro firmato in basso a destra a destra Vittorio Carrese non perdete questa opportunità datemi retta poi vi mangiate le mani al numero 25 un pittore di Milano molto bravo si chiamava Giovanni Borgonovo nasceva a Milano il 26 giugno del 1881 e vi moriva il 21 luglio del 75 è stato anche docente italiano frequentò l'accademia delle belle arti di Brera e insegnò anche a Brera ritrattista di grande abilità ma anche valente paesaggista di campagne e marine nel 1920 vince il premio principe Umberto con il dipinto a olio tramonto dicembrino nella campagna milanese che viene acquistato dall'industria delle lampadine Edison nel suo lavoro rimane esterno alle tendenze avanguardistiche così come i classicismi da riprodurre sempre nel suo stile è rimasto sempre uguale una sua opera è stata abbattuta anche alla Sotheby di New York alcuni suoi dipinti figurano nelle raccolte dell'ospedale maggiore di Milano questa opera di Giovanni Borgonovo misura 38 per 46 ed è un'opera degli anni 30 davvero molto bella la campagna lombarda al passepartout ancora verde col vellutino la cornice è andica andica tenuto molto bene tenuto molto bene costava 1.800 diviso 3 fa 600 euro soltanto mi sembra una cifra molto modesta per un'opera originale certa di Giovanni Borgonovo eh signori datemi retta datemi retta che vi mangiate le mani vi mangiate le mani forza e coraggio su 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 dai 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 questo è un bel quadro di Borgonovo eh a 600 euro l'opera numero 26 un bellissimo nudo femminile voilà nella misura 60 centimetri per 50 questo è un artista slavo che vive opera a Milano Zoran Vladić eh 60 per 50 olio su tela costava 1.200 diviso 4 300 euro a casa tua guarda le mani di questa ragazza come sono fatte perfetto anche il volto è molto bello anche fisicamente ben strutturato Zoran Vladić pittore che vive opera a Milano no è un pittore moderno è un artista contemporaneo eh 300 euro cash flash finale scontato signori adesso non domani ora c'è lo sconto le chiusure mandato domani c'è antiquariato lunedì c'è la pittura normale dell'800 allora andiamo a vedere l'ultima opera poi torniamo indietro e ricominciamo da 1 e abbiamo visto i 20 e gli altri poi tesoro e tesoro da 1 a 27 hanno confermato e andiamo andiamo girando ma no ma non esiste proprio noi facciamo così li rivediamo tutti da 1 a 27 non esiste proprio qui abbiamo un'opera di Achille Formis è una Venezia è uno scorcio veneziano piuttosto raro nella sua tematica l'opera misura 60 cm per 30 e siamo nell'ultimo decennio del XIX secolo lui nasceva a Napoli il 15 settembre del 1832 e morto a Milano il 28 ottobre del 1906 a partire dagli anni 60 dell'800 frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Brera e bravo era bravo anche come orientalista poi negli anni 70 si ispirò molto con vedute del Lago Maggiore nel 1877 partecipa all'Internazionale di Venezia dove torna alla Biennale del 99 riscuotendo enorme successo espone a Berlino nel 1896 a Monaco Perviera nel 1901 e nell'anno in cui morì nel 1906 qui ho trovato una giudicazione di un'opera molto più piccola di Achille Formis Befani era il primo nome misurava 19x31,5 battuta a Piacenza il 5 dicembre dell'anno scorso e aveva una stima di 1.400-1.500 prezzo non è stato divulgato ma era piccola piccola 20-30 questa è 60x30 bellissima del 96 c'è scritto io ho detto ultimo decennio 1896 chiedo scusa 1896 costava il decennio è quello ultimo decennio ci sta il 96 non ho detto una fesseria costava 1.500 che è una cifra folle per 2 fa 3.000 diviso 3 fa 1.000 euro Achille Formis bellissima Venezia del 1896 tra l'altro è un uomo su tela applicato a tavola bisogna poi correggere ma non c'è problema eh? cosa? non ti preoccupare tesoro non ti preoccupare ah c'è scritto bene 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 questo mi fa piacere sì olio su tela applicato a tavola questo viene proposto scontato a 1.000 euro 1.000 euro finale 1.000 euro soltanto signori non vi voglio mettere fretta assolutissimamente io vi dico che un dipinto di come funziona qua? un dipinto di questa entità un dipinto di questa entità non si deve perdere per nessun motivo per nessun motivo al mondo a 1.000 euro bene sono 54 in tutto i nostri dipinti io ricomincerai dal numero 1 perché magari qualcuno non ha seguito dall'inizio quindi vediamoci lì bene i primi 27 poi da 28 a 54 li vediamo dopo ritorniamo ci sono delle proposte imperdibili ve lo dico subito questa bella natura morta degli anni 60 70 del maestro Rick Van Keckelberger è l'otto numero 1 è un olio su tela 70 cm per 60 da 900 euro diviso 4 diviso 4 scendiamo a 225 euro 225 euro signori voi capite che incorniciato portato a casa tua a questo valore economico veramente non si può sentire eh non si può sentire davvero eh 70 per 60 quindi signori miei valutatelo come sapete di doverlo valutare poi il il numero 2 è questa bella popolana partenopea che mangia le cozze lui è Giuseppe Uva è un'opera tra la fine dell'otto e il primo decennio del ventesimo secolo certificata ed espertizzata da un periodo del tribunale 40 per 50 olio su tela sempre proposta a 800 euro scontata per 2 fa 1.6 1.6 diviso 3 fa 533 euro Giuseppe Uva Giuseppe Uva Poi al numero 3 Giulio Musso Giulio Musso Giulio Musso Piazza delle Erbe a Verona è un bellissimo acquerello del primo decennio del ventesimo secolo lui nasceva a Asti nel 51 e moriva nel 15 è un acquerello su cartoncino che misura 46,5 per 65,5 olio scusate acquerello su cartoncino che noi offriamo costava 800 euro già scontato per 2 fa 1.6 diviso 3 anche per questa opera 533 euro 533 euro soltanto quindi insomma veramente ragazzi miei qui c'è solo da prendere in mano il telefono chiamare e bloccare il prezzo vi vedo un po' tristi vi immagino un po' tristi oggi come mai sabato è mezza festa domani torniamo dopo domani torniamo alla libertà per quasi tutti diventa tutto giallo forza su su al numero noi arancioni il resto d'Italia è giallo tesoro Armando Romano Armando Romano bellissima bellissimo interno di stalla 50 cm per 70 allo su tela costava 1600 euro scontato diviso 3 fa 533 euro finale al numero 5 c'è un dipinto di scuola toscana degli anni 50 60 degli anni 50 60 è un paesaggio con delle case un viale misura 50 per 40 olio su tela costava 700 euro diviso 4 175 euro finale 175 euro super scontato su 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 mi raccomando al numero 6 una coppia di disegni a matita di Francesco Gioli fine 800 primi 900 misurano circa 9 cm e mezzo per 13 sono due bozzetti fatti da uno dei più grandi pittori post machiaoli toscani costavano pensate 400 euro tutti e due questi vanno a coppia per due fanno 800 euro diviso 3 266 euro tutti e due eh chi li compra si rovina 266 euro eh 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 cosa sta succedendo niente non sei assolutamente nulla secondo me non si vede il canale io ho questa idea che siamo noi e noi non si vede proprio perché non ci credo dai sono le 16 10 l'altra settimana che c'erano quadri da 10.000 15.000 9.000 chiamava tutta l'Italia eh ragazzi miei qui siamo nel veramente boh no no ma il peggio è per voi io dico il peggio è sempre per voi non per noi i quadri non sono nostri dovreste cercare di capire questo purtroppo mi sembra che pochi lo capiscano andiamo avanti al numero 7 molti sono capaci solo a lamentarsi come un po' costume degli italiani al numero 7 abbiamo William Welters questa tavoletta degli anni 30 confermati i disegni di Francesco Gioli Francesco Gioli sono confermati eh misura 19,3 per 40 olio su tavola deliziosamente deliziosamente belli guarda che meraviglia queste case costava 7,50 scontata 7,50 per 2 fa 1.500 1.500 diviso 3 fa soltanto 500 euro fa soltanto 500 euro eh hai visto che meraviglia eh signori miei magari toccasse a me eh magari toccasse a me farvi capire le cose più facili e invece mi pare che è tutto così difficile è bene che si tenga la foto dì che si può tenere la foto di quello eh l'ha visto forse no quindi eh poi al numero 5 i furbetti i furbetti 7 scusa l'8 sì al numero 8 abbiamo un dipinto di scuola lombarda oh così abbiamo fatto dai un dipinto di scuola lombarda degli anni degli anni 30 è un olio su tela 40 cm per 60 costava 750 euro scontato viene 2,50 pensa che anche potrei al limite lo sai sì guarda che meraviglia così è guarda ce l'ho qui però è bene sapere che è interessante questa è un'opera davvero fantastica 250 euro 250 euro la numero 10 Giovanni Panza opera della metà del secolo scorso eh 55 per 35 olio su tavola certificato ed espertizzato eh sempre proposto a 1.500 scontato per 2 fa 3.000 diviso 3.000 euro finale c'è un'espertise di un periodo del tribunale che certifica l'autenticità dell'opera Giovanni Panza 55 per 35 al numero 11 Ciro Punzo datato 1877 quindi un dipinto che ha 144 anni olio su tela 53 per 27 la cornice eccoeva è la sua originale anche questa è un'opera certificata ed espertizzata a un periodo del tribunale l'opera costava 1.800 scontate per 2 fa 3.600 diviso 3 1.200 euro 1.200 euro finale hai visto che meraviglia 1.200 euro finale al numero 12 troviamo una sanguigna raffigurante San Giovanni Battista siamo nel diciassettesimo secolo intorno al 1.660 1.670 misura 44 per 28,5 costava 1.500 scontata per 2 fa 3.000 diviso 3 1.000 euro 1.000 euro finale meraviglia San Giovanni Battista diciassettesimo secolo è un'opera che ha 350 anni ragazzi me ma io boh avete preso la camomilla oggi i sonniferi vi siete presi Gianfranco dovremmo ritornare sull'opera numero 2 numero 2 Giuseppe Uva invece di mangiare il primo hanno mangiato i sonniferi eh hanno mangiato dosi massicce di sonniferi allora è un 40 per 50 di Giuseppe Uva proposto a 533 euro finale eh certificato espertizzato eh grazie confermata l'opera grazie 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 poi andiamo a vedere eh l'acquerello di Giovanni Battista Filosa al numero 13 50 per 36 datato 1908 1908 eh acquerello su cartoncino grande artista costava 1.3 scontata per 2 fa 2.6 2.6 diviso 3 fa 866 euro 866 euro poi al numero 14 troviamo questo dipinto di scuola fiamminga degli anni 30 50 cm per un metro olio su tela una scena di taverna costava 1.8 diviso 3 fa diviso 4 fa 450 euro 450 euro scontato scontato al numero 15 Lucien Den Arend paesaggio innevato 65 per 91 olio su tela lui nasce nel 43 ancora vivente costava 1.000 euro diviso 4 250 euro finale mi raccomando riflettete attentamente non vorrei che faceste degli errori non vorrei che commetteste degli errori dovessero costare troppo sti quadri al numero 16 abbiamo un'opera di Edgardo Rossaro primo quarto del ventesimo secolo la Liguria il mare della Liguria lui poi andò a vivere a Rapallo in Liguria pittore che nasceva nel 1882 a Vercelli l'opera la tavola misura 70 cm per un metro più c'è una cornice chi lo scede dell'epoca l'abbiamo sempre proposta a 1.800 scontata per 2 fa 3.600 3.600 diviso 4 fa 900 euro soltanto neanche neanche paesaggio marino neanche la cornice neanche la cornice neanche la cornice signori credetemi sulla parola al numero 17 abbiamo Giuseppe Sposito un bel cascinale della campagna partenopea 70 cm per un metro olio su tela costava 1.800 diviso 3 600 euro finale 600 euro scontato al numero 18 troviamo questo pescatorello di scuola partenopea 1950 1960 misura 65 per 44 costava 1.000 euro diviso 4 250 euro 250 euro 2.000 euro numero 20 no vorrei che vi rendeste conto che alle 19 non c'è più questa trasmissione alle 19 sono tutti già resi ai legittimi proprietari quindi se siete interessati attivate il cervello mettetelo in moto Ugo Bernasconi 50 per 60 olio su tela primo quarto del ventesimo secolo da 2.000 euro 666 euro 666 euro al numero 21 Francesco Coleman in questo meraviglioso grande acquarello 66 per 44 fine del diciannovesimo secolo costava 1.500 scontato per 2 fa 3.000 diviso 4 fa 750 euro è un cascinale un cortile pieno di elementi di verdure di cianfrusaglia sparpagliata ma è un'opera fatta da acquarello alla fine dell'ottocento in maniera straordinaria sono tre personaggi e quella signora all'interno di quella casa che si intravede poi c'è la contadina della campagna romana con la zucca in mano qui in primo piano che tiene quella bella grande zucca in mano e l'altra che sta piegata su quel catino di metallo cioè è un bel quadro Coleman è stato un grande artista io ho dato non da ultimo mi pare proprio una cara amica una popolana piccolo così 30-20 35-20 a 700 euro questo 7,50 come mi fate i conti ah boh fate come mi pare al 22 Giovanni Colmo signor mi aspettiamo un po' presto per aspettare il fischio finale ma va anche bene tanto la prossima ripeto settembre-ottobre poi semmai la tiro anche più lunga perché insomma non lo meritate neanche lo sconto Giovanni eh? perché troppo buoni se ne approfittano bisogna essere sempre implessibili e cattivi sempre Giovanni Colmo 24 per 30 costava 600 euro per due fa 1.2 diviso 3 400 euro 400 euro finale poi al 23 troviamo questa scuola partenopea degli anni 40 eh un notturno alla Bergaminio ancora meglio la Fergola misura 45 per 36 costava 500 euro diviso 3 166 euro al 24 troviamo Vittorio Carrese questo paesaggio fluviale 18 per 24 costava 400 euro diviso 3 fa 133 euro al 25 troviamo Giovanni Borgonovo da Milano opera degli anni 30 misura 38 per 46 olio costava 1.800 diviso 3 600 euro la campagna lombarda al 26 Zoran Vladic un bel nudo di donna non mi ricordo chi mi ha chiesto nudo di donna giorni fa ma è uguale sì 60 per sarà in campagna 60 per 50 olio su tela da 1.200 300 euro diviso 4 diviso 4 300 euro portato a casa tua al 27 Achille Formis datato 1896 uno scorcio di Venezia 60 per 30 olio su tela applicato a tavola costava 1.500 scontato per 2 fa 3.000 diviso 3 fa 1.000 bene andiamo a esaminare la seconda parte della trasmissione che sarà immagino come la prima oggi al numero 28 Roberto Nardella una elegante fanciulla col cappellino con le piume 50 per 40 olio su tela costava 700 euro diviso 4 175 euro finale 175 euro finale Roberto Nardella al numero 29 troviamo Giuseppe Caffasso pittore torinese nasceva nel 1889 ed è morto nel 1977 qui abbiamo una natura morta in questo paesaggio è un soggetto che è ripreso dai quadri di un tempo dai quadri di un tempo la cornice e la sua è un'opera del 1930 circa misura 30 per 24 sempre proposta 500 euro scontata per 2 fa mille diviso 3 fa 333 euro 333 euro scusami se ti interrompo per il signor Antonio che in linea dovremmo ritornare sulla 24 24 Vittorio Carrese andiamola a rivedere 18 per 24 da 400 euro non vi rovinate 133 euro paesaggio fluviale anni 60 la cornice è pure la sua grazie Gianfranco è confermata l'opera bene certo è un piacere senti sto microfono proprio ti ricrea al numero no ma a me fanno piacere queste cose al 29 Giuseppe Caffasso Giuseppe Caffasso guarda che bella questa natura morta ma soprattutto meravigliosa è la cornice eh hai visto tutta traforata dimmi anni 30 anni 30 per questa bella natura morta che di piccolo formato è sempre piuttosto difficile da trovare da reperire eh mi sembra un gioiellino questa opera di Giuseppe Caffasso da Torino da Torino eh la numero 20 la numero 30 chiedo scusa è invece un'opera del maestro Vincenzo Canino nasceva a Napoli nel 1892 moriva nel 78 e un olio su tavola 18 per 26,5 sembra proposto a 400 euro scontato per due fa 800 diviso tre 266 euro pensa a quanto costa poco quest'opera di Vincenzo Canino 266 euro al 31 Vespasiano Quarenghi la campagna lombarda pittore che nasce a Milano nel 1888 e muore nel 55 anche questa è un'opera degli anni 30 si vede un campanile di un borgo di un borgo abitato e questo corso fluviale la cornice è la sua l'opera misura 40 cm per 30 olio su tavola Vespasiano Quarenghi un grande artista frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Brera e presenta opere promotrici un po' ovunque costava 750 euro scontato per 2 fa 1.500 diviso 3 lo potete catturare a 500 euro 24 euro al mese non ci sono notizie ma è morto guarda che meraviglia guarda che meraviglia questo piccolo dipinto di Vespasiano Quarenghi Vespasiano Quarenghi al numero 32 Gaetano Vitale Gaetano Vitale 40 per 50 olio su tela questa è un'opera degli anni 50 un'opera vecchissima di Vitale pittore che nasceva a Cava dei Tirreni nel 1923 morto intorno agli anni 2000 era e nacque insieme a Tafuri come pittore suo compagno d'arte e fu erede del figurativismo verista tenne mostre personali e collettivi in Italia all'estero a Salerno nel 37 a Roma nel 40 a Firenze nel 41 ad Amalfi nel 42 Salerno nel 45 a Parigi nel 1950 a Londra nel 52 a Madrid nel 61 e a Roma nel 71 lui era bravo a realizzare queste figure alla Clemente Tafuri queste gitane questo è un qualcosa degli anni 70 80 io quando iniziai a fare questo lavoro non so quante ne ho vendute di queste figure però questo è un soggetto molto raro perché è un cascinale davvero molto bello degli anni 50 quindi è un prima una delle prime opere di Gaetano Vitale la cornice è stata tutta ridorata in foglio oro l'opera costava 2.000 euro scontata per 2 fa 4.000 diviso 4 fa 1.000 euro soltanto 1.000 euro per Gaetano Vitale pittore la scuola di Cava dei Tirreni possiamo dire collaboratore allievo di Clemente Tafuri l'opera è pagabile anche con 22 euro mensili 22 euro al mese buon provvi faccia buon provvi faccia signori mi dispiace che state buttando alle ortiche un'occasione così importante poi è chiaro che perdere queste opportunità di comparare tutto a niente mi sembra veramente inopportuno poi fate come volete signori ognuno è padrone della propria tasca ognuno è padrone di prendere dove vuole di comprare anche cose importanti o porcherie perché voglio dire ecco il mondo ormai devo dire che televendite o presunte tali ce n'è in ogni dove cose serie ne vedo poche qualcosa c'è di serio parlo di questo settore poi ci sono dei tentativi delle cose ma riuscite però ripeto se uno vuole si vuole divertire a buttare che so prego non è un problema io non sono mai stato geloso comprate dove volete voi sappiate che questa è un'unica trasmissione finisce alle 19 non li vediamo mai più vitale abbiamo visto a mille qui abbiamo Luigi Bergamini pittore che nasce a Napoli intorno al 1840 1850 frequenta l'Accademia delle Belle Arti ed è si è ispirato alla pittura di Salvatore Fergola questo è un notturno proprio alla Fergola è una tela dell'ultimo quarto del diciannovesimo secolo abbiamo detto Luigi Bergamini 45 per 55 olio su tela costava 1.500 scontato per 2 fa 3.000 3.000 diviso 3 fa soltanto 1.000 euro fa soltanto 1.000 euro eh tesoro mio bisogna essere concentrati cosa devo dire che vi rimane molto difficile alla maggior parte di voi eh qualcuno scambia il giorno con la notte la notte col giorno eh una trasmissione per un'altra e chi più ne ha più ne metta poi qualcuno ci azzecca anche però insomma è abbastanza abbastanza complicato al 34 4 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 Pari o Veneta, lombarda, benissimo, scuola lombarda, misura 40 cm x 50, anni 40-50 addirittura, costava 800 euro, diviso 4 fa 200 euro, veramente neanche il valore della cornice, esatto, neanche una stampa di Schifano, una grafica di Schifano, che vedo stanno andando la grande le stampe che stiamo dando a 100 lire, a 150, ma lo stesso prezzo di questi insomma. Però sai, ma che devo dire? Ecco poi becchi un pomeriggio così e allora pensi a quanto ti impegni per portare poi le opere di Smargiassi, di Mancini, di questo, di quello, di quell'altro, e poi la ricompensa è questa, il silenzio degli innocenti. Che ci sta, ci sta, perché poi ognuno sa quello che deve fare. Ripeto, io ero convinto che ne avremmo assegnati, l'ultima volta che l'abbiamo fatto era forse un po' più fresco di oggi, oggi è uscito il sole, allora, oh il sole, e allora tutti guardano il cielo, è vero? Allora, andiamo a rivedere questa... Ma quale libertà tesoro mio? Libertà sono tutti liberi! Ieri sono andato a mettere il vetro, c'era una coda di 50 macchine, stavano tutti per strada, chi frega di rosso? Non lo guarda nessuno rosso, ognuno fa come gli pare, apposta non scendono mai i contagi. I contagi non scendono mai, perché nessun suo, ognuno si fa i fatti suoi, stiamo in Italia purtroppo. Eh, al 35, Tonino Manna, vai! Guarda che bello! È un olio su tela a 70 per 50, questa è un'opera degli anni 80, una giovane popolana. Lui nasce a Sant'Antimo, vicino a Napoli, nel 1952. È un pittore che frequenta l'Accademia delle Belle Arti e inizia l'attività artistica come ritrattista, ma poi, a mano a mano, amplia una gamma di generi diversi, di soggettistiche. Pittore di grande qualità, nel 1952 a Sant'Antimo, sì. La sua pittura è conosciuta un po' in tutta Italia e anche in qualche nazione europea. Questa è un'opera del suo inizio, degli anni 80, quindi aveva neanche 30 anni, o 30 anni circa. L'opera misura 70 per 50 costava 1.200, diviso 4 fa 300 euro. 300 euro soltanto, soltanto 300 euro finale. Olio su tela a 70 per 50. è vero, troppa enfasi. Più passivi, più... È vero, è vero, mi sto impegnando troppo. È anche vero questo, è vero, è vero. Cerchiamo di essere più distaccati. Io cerco di trasmettervi entusiasmo, ma è proprio l'elemento primario che vi manca alla maggior parte di voi. Siete un po' abulici, un po' cupi. Purtroppo è così. Al numero 36 abbiamo un pittore di Livorno, Bruno Tintori. È un paesaggio lacustre davanti a un monte innevato. Nasceva a Livorno nel 17 ed è morto nel 1991. È un olio su masonite, 50 per 70, costava 750 euro, scontato viene 250 euro soltanto. Bruno Tintori, Bruno Tintori. Al numero 37 abbiamo Leon Giuseppe Buono, il porto di Pozzuoli. 50 per 60, olio su tela, anni 50, costava 1.500 scontato, per 2 fa 3.000, diviso 3 fa 1.000. 1.000 bolle blu, 1.000 bolle blu, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Altinista, è un pittore che ha dipinto chiaramente solo nel Novecento, un po' coetaneo di De Corsi, leggermente più giovane, coetaneo di Panza, leggermente più vecchio, di tutte quelle schiere di pittori che sono nati nella fine dell'Ottocento ma in realtà hanno operato solo nel Novecento. Al numero 38 abbiamo questa figura di scuola lombarda, siamo nell'ultimo decennio del XIX secolo, l'opera purtroppo non è firmata ma i nostri esperti hanno detto che si può attribuire o a Cesare Tallone o Ambrogio Alciati, che sono stati due grandi ritrattisti e l'altro insegnanti tutti e due all'Accademia delle Belle Arti di Brera nell'Ottocento, quindi una scuola lombarda del XIX secolo, misura 48x42 in ovale, olio su tela, ben incorniciata con una conicestile ma assolutamente valida, l'opera costava 1.500 scontata, per 2 fa 3.000 diviso 3 fa 1.000 euro soltanto, soltanto 1.000 euro, lo si potrebbe pagare con 22 euro al mese. Fra 5 minuti tesoro, adesso sto cercando delle cose, spero di non stancarmi, ecco, meraviglia davvero, una bella figura in ovale, vedete un momentino, voglio, voi, voi, voi. Al 39 troviamo Pietro Colli, Pietro Colli, pittore praticamente alessandrino, nasceva, queste sono le colline intorno all'Alessandria, al Piemonte, lui nasceva in un paesino che è vicino a Alessandria, che conosco molto bene, Lu Monferrato, Lu, tra l'altro ci abitano molti gioiellieri perché è vicinissimo a Valenza, però nasceva quando forse non c'era ancora la gioielliera Lu, perché nasceva il 2 di aprile del 1891 e poi visse per tanti anni a Torino, andò a morire in un paesino a fianco a Lu, che è San Salvatore Monferrato. Io ho tanti amici ad Alessandria, quindi conosco tutte quelle zone, bene. Frequentò l'Accademia Albertina e fu allievo di Giacomo Grosso. Nel 28 figurò a Torino la mostra della promotrice, con un quadro Le ultime mele. partecipò alle varie mostre ordinate dagli amici dell'arte di Torino, fece mostre anche alle Biennali di Brera, alle promotrici genovesi e fiorentine. Questo è un bel quadro degli anni, direi, 40-50 prima metà, Pietro Colli misura 45,5 per 56, olio su tela. La richiesta iniziale era 1.800 da scontare, oggi 1.800 scendono a 600 euro. 20 euro al mese per 36 mesi. Valutateli bene, signori cari, valutateli bene, state commettendo degli errori grossolani, state commettendo dei gravi errori a perdere queste opere, perché poi alle 19 vanno via tutte e non le vediamo più. Poi non mi chiedete gli sconti lunedì, mercoledì e sabato prossimo, perché poi arrivano le grida. Le cose vanno fatte per tempo, non è che abbiamo messo 10 quadri con lo sconto, ne abbiamo messi 54, ne avete confermati 1, 2, 3, 4, 5 lotti. In un'ora e tre quarti. Bravi. Al numero 40, Davide Nadalo, un borgo innevato, probabilmente del Piemonte, doveva essere un pittore piemontese. Siamo negli anni 60-70, è un olio su tela, 65 per 92, costava 1.500 diviso 3, 500 euro. Praticamente neanche il costo della cornice. Ah, mamma mia, mamma mia. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Davide Nadalo, Davide Nadalo, 65 per 92. Grazie. 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 Grazie a tutti. Al numero 42 troviamo un acquerello di scuola piemontese degli anni 50, misura 45 per 65, costava 500 euro, diviso 4, 125 euro, 125 euro soltanto. Certo è prendere proprio a calci la fortuna, state prendendo a calci, quanti bei quadri che ci stanno oggi, oh mamma mia, contenti voi, contenti tutti. 43 abbiamo questa stazione della via Crucis di scuola toscana degli anni 30, è un olio su rame applicato a cartone, bisogna correggere non 19, 20, forse per questo che 40 per 30 costava 1000 euro, diviso 3 fa 333 euro. Un'opera fatta benissimo, nostro Signore Gesù, guarda che meraviglia. La via Crucis di scuola toscana ha 333 euro. Al numero 44 abbiamo Antonio Pecoraro che nasce a Napoli nel 1938, è orario da caffè, lascia stare, rispondi dopo, pigliamoci il caffè, godiamoci la vita, loro oggi non hanno voglia, io meno di loro, figurati. Oggi mi sento pure bene, non c'ho male alle articolazioni, sto da Dio. Antonio Pecoraro, che bel quadro, mi ricorda per molti aspetti Scoppetta. È un olio su tela, tra l'altro degli anni 70, vedete è stato acquistato in una galleria a Roma. Quello è importante, eccolo qua, esposizioni via nazionale a Roma, c'è il proprietario, vabbè, Roma, compleo di cornice Antonio Pecoraro, è stato acquistato il 22 agosto del 1974. Timbalato è firmato, questa esposizione d'arte a Via Nazionale. Nasce a Napoli nel 1938, è un pittore impressionista, i pescatori che riparlano le reti sul mare. 18 per 24, olio su tela, completo di vetro, guarda quanto è carino a urna, come si usava all'epoca, costava 700 euro, diviso 3 fa 233 euro. Evviva, evviva, evviva la torre di Pisa, eh? Che pende, che pende, non viene mai giù. Tu ci scherzi, ma sei inclinata parecchio, eh? Allora, hanno messo tutti i rinforzi, i pilastri, le fortificazioni, 233 euro per Antonio Pecoraro. Piano, con calma, 233 euro, niente proprio. Poi, al numero 45 abbiamo Gigi Comolli. 40 centimetri per 30, olio. Prima metà del ventesimo secolo, nasce a Milano nel 1893 e muore, mi pare, nel 76. E' confermata l'opera numero 18. Evviva, bel quadro, complimenti. Studia l'Accademia delle Belle Arti di Brera, espone la sua prima esposizione nel 12 alla permanente di Milano. Ammazza, è partito bene, eh? Bravo davvero, eh? Molti collezionisti si appassionano alla sua pittura e riscuote grande successo. Espone anche alla Società Amatori e Cultori di Roma e una sua opera è acquistata dalla Galleria d'Arte Moderna, sempre di Roma. E anche, ce n'è anche una, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, un'opera del 38. Questo è un 40 per 30 ad olio, Gigi Comolli, guarda che meraviglia, giuro, volevo, perché non si può vedere un'opera così a questo prezzo. Non si può veramente vedere, questo è un bel quadro, eh? La campagna lombarda di Gigi Comolli, arrivo, eh? 40 per 30 costava 950 euro, per due fa 1.9 diviso 3, 633 euro. 633 euro finale. Devo dire, un inizio, se fosse direi difficile, sarebbe un eufemismo, eh? Sono convinto che se avessimo fatto quadri senza nessun tipo di sconto, sono sicuro ne avremmo assegnati già di più. Signori, io ho, abbiamo creduto, dovevamo farlo, perché comunque noi rispettiamo gli impegni, ci sono da chiudere dei mandati, se diciamo ok, va bene, ai proprietari dipinti le opere non sono nostre, per questo vi dico, se voi le confermate io sono felice per voi, se non le confermate, mi dispiace i miei committenti, ma a me me ne può importare meno della serie, non sono nostre, quindi, sì, è vero, abbiamo rimesso una trasmissione, perché questa è gentilmente offerta da Aurora Arte, ma pazienza, me lo ricordo la prossima volta, e il sabato, anche se c'è, poi rimanda a lunedì, perché è un peccato buttare un sabato con un ascolto, devo dire, molto, molto disattento e precario. Al numero 46 c'è questa bella opera di Luigi Brunone, che nasce in Calabria nel 44 a Bivo Valencia, però poi si trasferisce giovanissimo a Napoli, dove studia pittura e disegno all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, inizialmente si specializza come ceramista e allievo di Giuseppe Macedonio, che era un ceramista, e poi inizia a dipingere all'età di 20 anni. Nel 75 si trasferisce per un certo periodo all'Alessandria, per poi ritornare a Napoli negli anni 80. Questa è un'opera del 1992, sono gli scugnizi che vendono le angurie Luigi Brunone, Luigi Brunone 1992, un quadro moderno, 80 per 50 allo suttello, lo stile molto simile a Tafuri, alla pittura di Cava dei Tireni, costava 2.500 euro, diviso 3 fa 833 euro finale. 833 euro finale. Signori, la pittura a questi valori non la comprate né da noi né da altri, a questo valore economico la pittura non la comprate né da noi né da altre parti. Pittori quotanti, pittori importanti, vi è passato sotto il naso Pietro Colli, Leon Giuseppe Buono, Antonio Gravina, Gigi Comolli, vi sono passati sotto il naso dei quadri eccellenti, Luigi Bergamini, Gaetano Vitale, Vespasiano Quarenghi, Caffasso, Canino, ma a due soldi, Formis. Di che epoca è il 44? Il 44, lo hanno comprato nel 74, negli anni 70. È ancora vivente Pecoraro, è ancora vivente Antonio Pecoraro. E' del 38, mi dice, fai io vedere il 44. Ok, il 24 è il 233. Di che epoca è il 233, ragazzi, ma boh. Ma che film guardate, Pippo e Pluto contro gli indiani voi, eh? Vai, vai avanti, vai avanti, dai. 46, allora hai preso i caffè, perché t'hai anche disturbato che prendevamo i caffè. Allora, sì sì, fermati, fermatemi. Tranquillo. No, no, fermati. Guarda che bello questo, i giovani con le angurie. A 833 euro. 833 euro. Leggermente, va benissimo. Ma si vede che sono i giovani che vendono le angurie. Eh? L'anguria è meravigliosa se non avesse i semini. Ma adesso l'hanno modificata geneticamente perché ci sono le angurie senza semi. Però le angurie sono i veri semi. Chi è? Signori, stiamo prendendo il caffè un attimo. Eh? Non credo, non credo, tesoro. 833 euro. Allora, il caffè... L'hai preso, Mino? Tranquillo. Pensate, pensate, chissà che tragedia sarà successa. Al 47, paesaggio fluviale di scuola Lombarda. 30 centimetri per 40, olio su tela. 1950-1960 costava 500 euro. Diviso 3, 166 euro. 166 euro finale. Con la sua cornicina artigianale dell'epoca. 166 euro. Devo dire un momento davvero catartico. Eh? Eh, da mo'. Guarda che meraviglia. Assolutamente. Vedete appena adesso? Ci sono i quadri. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Chi vivrà vedrà. 48, Federico Alfano. Nasce a Napoli nel 1933 e muore nel 2010. Grande artista. Qui si è cimentato in una meravigliosa natura morta. Con pesci, con un bello orata, dovrebbe essere, e dei gamberi. 40 per 50 allo su tela, questa è un'opera degli anni 90, anni 80-90, davvero molto bella, costava 1000 euro, diviso 4, 250 euro. 250 euro. Vicino? No, ho capito, ho capito. Vicino? Se la chiamo a qualcuno... Ma sì. Se la chiamo a qualcuno, vi dico a lei che vuole prenotarne un altro lavoro, a venerdì prossimo, un certo? Va bene. Se la chiamo a qualcuno... Alle 3, alle 15, alle 19, fino alle 20, no alle 3, alle 4, alle 6, alle 16, il venerdì iniziamo alle 4. Allora, alle 16. Vabbè, anche uguale, dai. Andiamo avanti. Al 49 abbiamo un'opera di Riccardo Vozzi, anni 50, un cascinale, pittore toscano, Olio su tela, 75 per 55, costava 700 euro, diviso 4, 175 euro. Riccardo Vozzi, anni 50. Te velo, veloce, eh? Veloce, 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 vai. Guarda che meraviglia. No, spiegagli, ci sono tanti ipermercati, eh? 175 euro. Guarda che meraviglia. Tanto non glieli danno, quindi è uguale. Al numero 50, scuola toscana, grazie di che? 30 per 40, olio su tela, da 450 euro, 150 euro finale. Con la sua cornice è anche tutta lavorata. La campagna toscana, pittura labronica questa, eh? numero 51, Giulio Tadolini, primi anni del ventesimo secolo. Nasceva nel 1849 e moriva nel 18. L'opera misura 32 per 20, un olio su tavola, costava 1.400 scontato, per 2 fa 2.800. 2.800 diviso 4 fa 700 euro, per Giulio Tadolini. Giulio Tadolini. Cornice Coeva. Al 52 c'è un'incisione di scuola romana, Ponte Milvio. Siamo nel primo decennio del diciannovesimo secolo, è un'incisione acquarellata a mano. Misura 23 per 31, sempre proposta a 500 euro scontata, per 2 fa 1.000 euro, diviso 3 fa 333 euro finale. 333 euro scontata, questa incisione acquarellata a mano. Torno a ricordarvi, qualora ce ne fosse bisogno, che tutte le opere sono accompagnate dal regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge secondo gli articoli legge 1490-1491 del codice civile. Al 53 troviamo uno scorcio parigino, 50 per 70, databile tra il 1870 e il 1880, attribuibile alla scuola di Giuseppe De Nittis. In realtà su quest'opera c'è una targhetta in basso che c'è scritto Giuseppe De Nittis, magari lo fosse. Se fosse De Nittis non starebbe ad Aurora Arte perché nessuno sarebbe in grado di comprenderlo o comunque di acquisirlo perché è un quadro da 150.000 euro almeno, quindi non potrebbe mai stare qui. Quindi è una scuola francese attinente alla pittura di De Nittis, però è d'epoca. L'abbiamo sempre proposta a 2002 scontato, per due fa 4 e 4, 4 e 4 diviso 4, 1.100 euro. 1.100 euro per questa piazza parigina realizzata tra il 1870 e il 1880. Olio su tela, la cornice è la sua. E poi l'ultima opera è una battaglia navale di Robert Ambrose. C'è purtroppo un riflesso qui sopra che è dato da un vetro che in realtà non c'era. Qualcuno me l'ha fatto mettere, però noi lo diamo col vetro ormai. Poi se lo volete togliere lo togliete voi. 60 per 90 è una bella battaglia navale degli anni 60 di Robert Ambrose. Costava 1.500 euro, viene diviso per 4. Viene a costare con questa cornice in legno tirata in foglia oro 375 euro. Neanche i quadri cinesi stampati e sporcati con l'olio costano questi soldi. A voi la battaglia navale di Robert Ambrose. 60 per 90. Sì, ho sentito, è vero. Certamente una grande artista, ma posso dire di non conoscere una sua canzone. Forse la Filanda, la Filanda mi ricordo. Non conosco una canzone di Milva. Era un genere... Io pensavo fosse più anziana. Io pensavo fosse più anziana. Ritorniamo sulla 44, mi dai la dimensione? 44 è richiesta da tutti. È l'opera fondamentale di Antonio Pecoraro. 18 per 24, è un'opera degli anni 70, a 233 euro. C'è ancora la sua cornice, il pasparto in vellutino, l'etichetta... Fai l'etichetta sotto? L'etichetta sotto Pecoraro? Andonio, Andonio Pecoraro. Bene, che dire? Sono un po' annoiato, deluso, molto deluso. E questo mi dispiace davvero, perché mi aspettavo una... Tra l'altro questa è un'opera del 1979, è anche datata. Confermata la 44? Mi aspettavo un altro pubblico. Confermata la 44? Va bene. Magari mi sono sbagliato, magari va bene così, non è un problema. Eh? Le rimettiamo a posto, le ridiamo a chi ce la date, quindi non è un problema. Ma non è che, ripeto, grazie a Dio noi non compriamo quadri. Qualcuno di voi ogni tanto manda delle proposte che vuole vendere, noi non compriamo niente. Non compriamo nulla. Se volete, lo date in affidamento e pagate lo spazio televisivo. Diversamente noi siamo pieni di merce fino a qui, perché poi sono delle persone che vogliono vendere e gli piace questa idea che comunque Aurora è certamente il polo d'attrazione della pittura dell'Ottocento e dell'Ottocento. Tutta Italia, se vuole un quadro di un certo tipo, Aurora prima o poi lo trova. Ragazzi, abbiamo dato opere importanti. La scorsa settimana abbiamo venduto Zan Domenichi, abbiamo venduto Pratella, abbiamo venduto opere importanti. Altre devono essere consegnate perché abbiamo Nicolino che è un po' appiedato, nel senso che sta un po' deboluccio, stanco. E quindi ha osservato una settimana di riposo, però mi sembra che le consegne si stiano muovendo molto bene e di questo vi ringrazio. Proprio per questo pensavo che oggi avreste fatto sold out e tutto, invece oggi siete di una diffidenza e di un'indifferenza atavica. Ricominciamo con l'opera numero 31. Ah, 31 vuole vedere te. 31 è bellissimo. Vespasiano Quarenghi. 40 per 30, degli anni 30, con la sua cornice coeva. 7,50 era il prezzo, per 2 fa 1.500, diviso 3, 500 euro. Anni 30, milanese, pittore di Milano. Nasceva nel 1888 e morto nel 55. Vespasiano Quarenghi. 500 euro. 500 euro scontata. La 31 costa 500 euro scontata, tesoro. Vespasiano Quarenghi. No, 500 euro scontata. Sì, ho scritto male, è 500, ma è per 2 diviso 3, quindi è 500. 40 per 30, l'avevo detto anche prima, me lo ricordavo a memoria. Vedi? Ora te lo dico, costa 7,50. Costa 7,50. Eh? Allora, la cornice, ora te lo dico, si può togliere il salvacornice marrone, che è quello in più, che salva la cornice, dovesse essere troppo grande. Quello si può togliere. La cornice è un peccato perché la sua, poi, così col salvacornice marrone, e qui piace molto a Mino, misura 49 per 59, immagino, giusto? Esatto, ho vinto qualche cosa, 59, 49, e beh, se c'è 10 centimetri, è chiaro che è 10 centimetri di più, eh? Non è che sono un mago. Anzi, 40 per 60. No, 49, 59, semmai... 50, 60 signora. Esatto, 50, 60. La 20 è l'altro, no, questa è di Buenos Aires, e poi muore, non mi ricordo dove, Ugo Bernasconi, primo quarto del ventesimo secolo, 666 euro. Dov'è che muore questo povero disgraziato? Capirai, capirai tesoro mio, stiamo a posto, siamo veramente in una botte di ferro qua, guarda che meraviglia. Un'opera strepitosa, hai visto? Lo sai che non mi ricordo, dove starla? Ah, eccolo qua, muore a Cantù, in Lombardia, 50, 60, 666 euro. Beh, 666, 50, 60 la tela, poi c'è la cornice, questa è più grande, molto più grande. No, su queste opere non si cambia niente, committente, già ci rimetto un occhio della testa, non possiamo dirgli cambiamo le cornici, le cornici sono in ordine, sulle chiusure mandato non si cambia nulla. Andiamo, ritorniamo alla 1, torniamo indietro, eh? e rivediamo il 7, noi alle 19 dobbiamo arrivare, quindi questo è il secondo giro e poi ne faremo anche un terzo, anche perché oggi è una bella giornata, molti sono usciti, molti sono a prendere l'aria, il sole, come è giusto che sia. Confermata la 31. La 31, però io non sento nulla, quindi faccio fatica. Allora, fai vedere quest'opera di Rick Van Kegelberger, 31 Ichellera, Quarenghi. Rick Van Kegelberger, è un olio su tela 70x60, è un vaso di fiori, margherite e fiori rossi e ci sono queste mele. È un'opera degli anni 60-70 del Novecento, costava 900 euro soltanto, diviso 4 fa 225 euro. col vetro, la battaglia navale col vetro, bellissima, è 78-108 immagino, esatto, 78-106 dai, 78-106. Hai visto che meraviglia, a 225 euro, a 225 euro finale, olio su tela 70x60. Questo è un bel quadro, signori miei, una bella opera, a 225 euro, c'è la cornice in legno. L'opera è vecchia, non è che l'hanno fatta l'altra mattina, lo vedi? Il telaio è il suo, la cornice è la sua, opera degli anni 60-70. Ma, vabbè, mettiamolo qua. Poi, al numero 3, c'è un acquerello meraviglioso di Giulio Musso, Piazza delle Erbe a Verona, misura 46,5 x 65,5, la mitica Piazza delle Erbe dove c'è il mercato delle erbe. È una delle piazze più belle d'Italia, la conosco benissimo. È un'opera del primo decennio del XX secolo, lui muore nel XV ad Asti e nasceva a Asti nel 51 dell'Ottocento. La cornice esterna e coeva è stato rifatto in passepartout, l'abbiamo sempre proposta a 800 euro scontata, per due fa 1.600, diviso 3, 533 euro. 533 euro finale, è regalata. Ma guarda la prospettiva, Piazza delle Erbe è così, con tutte le bancarie della frutta, a fare delle bancarie della frutta e quel palazzo frontale che è così proprio come lo vedete. Eccolo qua, guarda che meraviglia, guarda quante bancarelle, guarda che meraviglia. Ma guarda, ci sono delle... Cioè, a 533 euro, pagabile anche a rate, con 24 euro al mese, non vi capirò mai. Vabbè, al numero 4, Armando Romano, Armando Romano. Fermata la 54. Grazie, un interno di stalla, 50 per 70 d'olio. 50, ma sa quanto pesa! 50 per 70 d'olio. Guarda che meraviglia! Di 47, dove lo possiamo vedere, la scuola lombarda. La scuola lombarda? No, no, te lo porto io, te lo porto io. 500, e te credo, se no venivi te. 533 euro. Eccolo qua. La tela degli anni 50-60, vedi che è anche vecchiotta, la tela, la cornice più recente. Da 500 euro, 166 euro. Veramente grazioso. La tela, la 40? Questa è la 47. 47, perfetto. Questa è la 47, il ponticello, col fiume. Paisaggio fluviale. Non lo portando. Era la 47. Come? 166, grazie. Sempre 166, sì. Non c'è firma? No, tesoro, non c'è. Se c'è la firma, aspetta che la guardo, ma... Non credo, no, non è firmato, tesoro. Ci pensa? Fa bene, pensa c'è bene, non ti preoccupare. Allora, andiamo a vedere. Armasi, siete fortissimi. Armando Romano, Armando Romano. 50 per 70, olio su tela, costava 1.600, si vede male, perché c'è molta luce, 533 euro scontato. Mi fa sorridere molto, sinceramente, adesso non ve la prendete a male. Nel 600, nel 700 non ha mai firmato nessuno. Le opere di una volta sono tutte attribuite. Ci sono degli studiosi che controllano, guardano e danno l'attribuzione certa, secondo i loro studi. Non ha mai firmato nessuno, anticamente. Quindi, la firma è un qualcosa che è andata poi nell'Ottocento, capite? Allora, comunque è uguale, quadro che costa quei soldi e ridico. Allora, qui abbiamo questo interno di stalla, che si può vedere anche meglio inclinandolo in avanti, perché ritengo sia davvero un bel dipinto, a 533 euro. Vedi che bello? Fa una statistica. Abbiamo anche l'Istituto di Statistica... E tesoro, non me ne diste, mi fai ridere, dai, mi fai ridere. No, ma poi te lo dico in quale maniera, perché vai a ridere. E quindi è come se non... non ha chiamato nessuno. Non ha chiamato nessuno. Allora, andiamo avanti e andiamo... Al numero 5, Scuola Toscana. Ecco, questa è anche firmata, ma non so dirvi da chi. Qui c'è una firma. 5 siete fortissimi, guardate. Voi, veramente, ci sono dei momenti che suscitate in me la massima elarità. Perché proprio, devo dire, ci sono tanti che seguono, ma non sanno neanche cos'è che seguono. Eh? Non si rendono conto. Allora, questo è un bel quadro, davvero delizioso. Costava 700 euro diviso 4. 100... io quello solo vi voglio dire una cosa solo. Voi dovete pensare a una cornice di legno, farla fare. 175 euro può essere il costo della cornice. La tela è regalata. E' questo che non arrivate a capire, molti di voi. Che comprate le cornici, prima l'amico che ha preso la battaglia navale. La cornice non arriva a pagare a 375 euro. Perché la cornice costa più del quadro. E allora dice, ma saranno affari? Tutti sono affari. Poi è chiaro, bisogna vedere uno che cerca dalla pittura. Se tu aspetti che vada in chiusura mandato Irolli, che vada in chiusura mandato Antonio Mancini, potete aspettare tutta la vita. Perché chi ha quelle opere si ripia, non rese, eh. Ho reso, due mesi fa, ho reso un De Corsi e un Irolli. Ecco... Madonna, non mi fate spaventare con nomi pericolosi, eh. Non mi fate spaventare con nomi pericolosi. Vai la numero 7, William Welters. Oggi può succedere di tutto, eh. È uscito il sole, sai, il sistema neurovegetativo va in mille bolle blu. È una tavoletta di capri degli anni 30. 19,3 per 40, eventualmente, se volesse esatto, costava 7,50 scontata, per due fa 1.500, diviso 3, 500 euro. Quale? Guarda che meraviglia. 500 euro finale. Guarda che meraviglia. Ah, no, no, che altro? Quelli che vedono sono. Allora, signori, io quello che vi voglio dire, se io vi dico, William Welters, 500 euro, l'opera costava 7,50. È una tavoletta degli anni 30, firmata, certificata e garantita. Poi è chiaro che bisogna vedere voi cosa cercate. Perché, ripeto, di presunti tali, io sento, ogni tanto, vedo delle cose che sono da rabbrividire, tipo del 500, del 600, vale 100.000 euro, fate voi. Fate voi che? Ma de che? Ragazzi, ma, voglio dire, ma cerchiamo di essere seri. Fate voi, fammo noi, fanno essi. Non cerchiamo, noi quello che vi chiediamo, quello e niente più. Li prenotate, sono felice per voi, non li prenotate, arrivederci e grazie. Fai rivedere Welters, che è proprio carino, a 500 euro finale. Un sabato ostico. Sabato prossimo, devo tirar fuori i ghierardini, i quadri del 600, quelli pesanti. Almeno li facciamo tacitare tutti. Si spaventano e non chiamano, capito? Tiriamo fuori tutti i quadri di Giacomo, del 600, e facciamo tutta quella parete del 600. Allora, poi, al numero 8, un dipinto di scuola Lombarda, paesaggio lacustre, degli anni 30, olio su tela, 40 cm per 60 d'olio. Ecco, questo per esempio costava 750 euro, diviso 3, 250 euro. Mi dite dove lo comprate un quadro come questo? Dove lo comprate un quadro come questo? A 250 euro, nella misura 40 cm per 60? È una domanda che vi pongo, alla quale non avrò ovviamente mai nella vita una risposta, ma anche se io le risposte le ho, figuratevi, dopo 34 anni che faccio questo lavoro, non vi vedo, ma è come se vi vedessi. Eh certo, fa finta come no, eh? Allora, non so come fa essere ancora libero. Al numero 10, al numero 10, abbiamo un'opera di Giovanni Panza. Questa è un'opera davvero straordinaria. è un pescatorello, anzi uno scugnizzo che vende il pesce, in un angolo, perché questo è un angolo, di una piazza di mercati della vecchia Napoli, anni 50. L'opera ha anche un'espertise di un periodo del Tribunale, che certifica l'autenticità dell'opera. 55 per 35 su tavola Giovanni Panza, nasceva a Napoli nel 1894, e moriva a 95 anni di Lopenedica nel 1989. Uno grande verista che ha sempre amato realizzare gli angoli caratteristici di Napoli. L'opera costava 1.500 scontata, per due fa 3.000, 3.000 diviso tre, soltanto 1.000 euro. Soltanto 1.000 euro. Pensa, la potresti pagare con 22 euro al mese. Vi voglio ricordare che nonostante i prezzi scontati, non è che c'è l'obbligo dell'acquisto, nessuno paga, nessuno compra, nessuno spende, al momento della prenotazione. È giusto, pigliamo in uno che è leggero, ecco, è giusto, non voglio ripidiare cose pesanti, è giusto che voi lo pigliate a casa, lo esaminiate, e secondo il vostro occhio critico, sì o no. Gianfranco, mi fai rivedere il 45? Comolli, quello è un bel quadro, Gigi, Gigi come D'Alessio, Gigi Comolli, Gigi Comolli. Lei invece è il signor Luciani Guidi, è un paesaggio fluviale? È un paesaggio fluviale, certo della Lombardia, lui era di Milano, l'era pittore di Milano, Milano è un gran Milano, eccolo qua, bellissimi ricordi o a Milano, 40 per 30, questa è un'opera degli anni 40, anni 40-50, Gigi Comolli, la cornice è pure la sua, qualche piccolo ritocchino è a posto. Allora, vieni, torniamo sulla 10, che è un bel quadro di Panza, signori Giovanni Panza, 1000 euro non si compra, di questa dimensione, sappiatelo, io lo dico, ripeto, nel vostro interesse, noi siamo già largamente oltre la metà della trasmissione, alle 19, spengono le luci, tacciono le voci, sanno avuti a casa, ai 7, sappiatelo, 55 per 35 a 1000 euro, sotto abbiamo invece, che cosa? Ah, voi sta fino adesso, te la faccio rivedere, non c'è problema, ma di che, ma di che, ma figurati, ma per favore, ma levate il segnale su quella città, allora, qui abbiamo, un'opera di Ciro Punzo, 53 per 27, mi pare, giusto? Olio su tela, datata a 1877, ci sono delle oche al pascolo, stanno pascolando in quella zona, c'è una contadina sotto l'albero, a noi ricorda molto Salvatore Petruolo, lui nasceva a Napoli nel 1850, ed è morto nel 25, pittore importante, l'opera, anche questa, è espertizzata da un perito del Tribunale, la cornice, c'è la sua originale, sempre proposta, 1.800 scontata, cornice antica, tela antica, telaia antico, tutto coevo, 1.800 scontata, per 2 fa 3.600, 3.600 diviso 3, 1.200 euro, 1.200 euro, 1.200 euro, signori miei, purtroppo, secondo me, avete le idee molto confuse, molto, molto confuse, peccato, 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 state perdendo, una trasmissione ricca di affari, purtroppo, io posso solo dirvelo, al numero 12 troviamo una sanguigna del XVII secolo, che saprete senz'altro essere intorno al 1660, questo è seconda metà del XVII secolo, 1660, 1670, è una sanguigna su carta, 44 per 28,5, costava 1.500 scontata, per 2 fa 3.000, diviso 3, 1.000, diviso 3, 1.000, guarda che meraviglia, 1.000 euro finale, 5.000 a 3.000 a 70, cosa? E' grande? Metticelo, guarda che meraviglia, soltanto 1.000 euro, se la cantano e se la suonano, al numero 13, che purtroppo, perde queste opere, io dico che difficilmente troverà altro, qui abbiamo un acquerello di Giovan Battista Filosa, datato 1908, misura 50 cm per 36, questa scala, potrebbero essere i giardini del Palazzo Reale a Napoli, potrebbero, ma non ho la certezza, lui nasceva anche lui la metà dell'Ottocento, nel 1850, ed è morto nel 35, lui nasceva a Castellammare di Stabbia, dove sono nati i canoisti, a Bagnale e Peppiniello di Capua, bellino Peppiniello, era alto un metro e 28, era piccolissimo perché faceva il timoniere, imbattibili, bravi ragazzi, veramente bravi sono stati il nostro orgoglio negli anni passati per il canottaggio, allora questo acquerello, sempre proposto a 1.300, che mi sembra una cifra ridicola, tra l'altro la cornice irradica sua dell'epoca, una bella cornice irradica, 1.300 per 2 fa 2.600, 2.600 diviso 3 fa 866 euro, pensa questa che la parete più importante, è praticamente quasi intatta, pensa che pubblico importante che abbiamo oggi, 866 euro, ce ne parecchi eh, stai rispondendo quindi ti rendi conto da sola il livello, poi al 14, poi ci sono i giorni più e i giorni meno, oggi è un giorno di quelli nati così, dipinto di scuola fiamminga, un interno di taverna, non è antico, non è del Settecento, è un'opera degli anni Trenta, poi in mano a qualcuno lo fa diventare anche del Seicento, fate voi, fammono noi, vale 30.000, fate voi, è vero? no, io ti dico che è un quadro degli anni Trenta, perché il quadro è giovane e si vede facilmente che è giovane, l'abbiamo sempre proposto a 1.800, diviso 4, scende a 450 euro, è una tela 50 centimetri per un metro, c'è anche una firma ma illeggibile sinceramente, quindi noi vediamo poi la scuola fiamminga anni 30, solo la tele 50 cento, più la cornice diventa 15, un metro e 15 per 65 circa, guarda che meraviglia, opera numero 14, 450 euro, guarda che meraviglia, che riappendiamo? successiva di quello che ti ricordiamo è molto tempo, transcende, così è molto più una lista. E' un numero nurse, che è molto più una lista. E' un numero di caratteristiche, con il 75 cento, 65 per 91, Olio su tela, un tramonto innevato, è rosso, è rosso a vita, quindi grazie, grazie, ci sono tante trasmissioni diverse. L'opera costava 1000 euro diviso 4, 250 euro finale, 250 euro scontato, pensate voi 65 per 91, 65 centimetri per 91, datato 1965. Lucien Den Arendt, pittore olandese, poi al numero 16 questo meraviglioso Golfo Ligure, questo Golfo Ligure del primo quarto del ventesimo secolo, 1920 circa. 70 centimetri per un metro, olio su tavola, cornice coeva. Perché non vi ha chiamato la parte? Ma se l'ha annullato stamattina. Ha telefonato dicendo che si è chiamata la signora proprietaria. Scusi, stamattina mi ha chiamato Clara e l'ha annullato. Lui ha detto che ha telefonato per ammettere la parte delle opere e mi dicono che è stato confermato tutto. No, no. Parlate con Clara, io stamattina sono andato io per mettere il vetro. Infatti mi sono infuriato proprio. C'è lo scelto. C'è lo scelto. C'è lo scelto a parlarmi del signore dell'olio. Ah no? No. E che ne so, io non pensavo fosse quello. Allora, non ho idea. Allora, vabbè, niente. Allora, 70 centimetri per un metro, olio su tavola. Edgardo Rossaro. 1882 nasce, muore nel 72 del 900 a 90 anni. Olio su tavola, meraviglioso davvero. costava 1.800, per 2 fa 3.600, diviso 4, avete questo meraviglioso scorcio di mare a 900 euro. Vedete, io posso capire la grande dimensione, perché con la cornice comunque arriviamo a un metro e 10 per un metro e 40, perché la cornice è 20 centimetri dall'altro e 20 dall'altro. Ma è un quadro importante, è un quadro bello, è un quadro notevole. Lo state pagando nulla a 900 euro. Si paga con 20 euro al mese, ragazzi miei. Se perdete opere come queste, a questi valori economici, veramente, 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 eh. Guarda che meraviglia. Edgardo Rossaro. 900 euro. 900 euro. Guarda che favola. La quattro è confermata. Cosa è confermata? La quattro è confermata all'interno di Stalla, bellissimo. Complimenti, Armando Romano. Guarda che meraviglia questa. Ma ragazzi, è una marina meravigliosa, con un cielo, come dire, plumeo, un cielo nuvoloso. Questo è uno scorcio, mi disse la signora Bruna, che saluto, che proprio nei pressi di Rapallo, perché lui quando andò a vivere a Rapallo, è una città che lui amava, dall'altro è una bellissima città a Rapallo. Ci sono stato troppi anni fa, veramente bella, è una pittura materica, sembra una tecnica che usava Savier Bueno. È una tecnica sabbiata, ma bellissima quest'opera. Veramente di grande carattere di Edgardo Rossaro. I paesaggi marini solitamente vanno alla grande, con la cornice antica d'epoca, 1920-1925 l'epoca, 900 euro scontato, boh, fate voi al 17 Giuseppe Esposito, un bel cascinale, anche questo misura 70 cm per un metro su tela, ma è certamente più recente. Siamo negli anni 90, è un'opera contemporanea, nasce a Napoli nel 45, nel 48, non mi ricordo, Giuseppe Esposito. L'opera l'abbiamo sempre proposta a 1.800 da scontare, oggi diviso 3 fa 600 euro. 600 euro finale, 600 euro finale. Forza, 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 un po' di entusiasmo signori cari, io lo dico per voi, fra poco più di un'ora è finita la sarapanda, sono finiti gli sconti, poi hai voglia a guardarli e magari a placarli altri prezzi, altre opere, non queste, perché queste vanno via. Però vedete voi, al numero 20, Ugo Bernasconi, questa avvenente natura morta, molto bella, 50 per 60 ad olio, primo quarto del ventesimo secolo, bellissima. L'opera l'abbiamo sempre proposta a 2.000 euro da scontare, oggi 666 euro. Grazie. Sero, una qualità incredibile oggi, oggi una qualità incredibile, davvero un giorno da ricordare sul calendario. Sero, oggi, oggi è il mio mezzo anno, compio mezzo anno, essendo di ottobre, oggi è il 24 aprile, ho 62,5, esatti, e infatti mi fate festeggiare un bel mezzo compleanno, abbazza, ragionate passione. Al 21, eh? Sì, San Marco, San Marco, la Basilica di San Marco a Venezia, certo. Qui abbiamo questo bel cascinale di Francesco Coleman. Ecco, questo, signori cari, non lo capirò mai. È un quadro, fino all'Ottocento, di uno dei più grandi acquarellisti romani, è nato nel 1851 e morto nel 18. Ha fatto parte sia del gruppo degli acquarellisti, sia dei 25 della campagna romana. Fratello di Enrico Coleman è stato, forse, uno dei più grandi acquarellisti romani dell'Ottocento. 44 per 66, la cornice è la sua, quella che aveva, pasparto in velluto rosso, scuro. Sempre ho proposto una cifra piccola, perché il 1.500 è pochissimo. Per due fa 3.000, diviso 4, 750 euro. A 7.50 ho dato gli acquarelli grandi così. C'è una signora, la signora Rossana, che tre anni fa ha preso i due acquarelli piccoli così, mi pare a 1.000 euro l'uno, a 900 euro l'uno, di Coleman. Un'opera così grande, con personaggi e tanti oggetti, un acquarello di questo livello lo perdete a 750 euro? Non lo so. Questo è un pittore storico, storicizzato, importante. Fermati, si vede bene. Guarda che meraviglia. 22, Giovanni Colmo da Torino, un bel paesaggio, 24 cm per 30, dietro c'è l'autentica di Zaverio Beldì. Anni 30-40, delizioso, sempre proposto a 600 euro scontato per 2 fa 1.200, diviso 3 fa 400 euro. 400 euro, 4, 4, 400, 400 euro. Bene, bene, devo dire che nonostante praticamente chiami nessuno, devo dire che sta passando, perché manca poco più di un'ora. Sarà che, ti ho detto, oggi le articolazioni funzionano, quindi mi sento meno stanco. Al 23, Scuola di Posillipo, un notturno, 46 per 35 mi pare, ora guardo, olio, su tela applicato a cartone, 45 per 36, non 46 per 35, il contrario, costava 500 euro, 4, attenzione, attenzione, pensateci bene, a 166 euro, dovesse essere troppo costoso, eh? Che mamma mia, ragazzi miei, siete fortissimi. 45 per 36, olio, una costa, una costiera di notte della Campania, Scuola Partenopea. 166 euro scontato, signori, ma è un'opera anche grande, 45 per 36, olio, c'è il suo regolare certificato di garanzia autenticità, a tutti gli effetti di legge, io non lo perderei, fossi in voi, eh? Guarda che meraviglia. Grazie Gianfranco, l'opera è confermata. Bene, dal 23 andiamo al 25, Giovanni Borgonovo, Giovanni Borgonovo, questa Campania Lombarda, questa Campania Lombarda degli anni 30, lui nasceva a Milano nel 1881 e moriva nel 75, 38 per 46 ad olio, costava 1.800 diviso 3, 600 euro, 600 euro, super scontato. Giovanni Borgonovo, ancora la sua cornice dell'epoca, col passepartout in velluto verde, eh? Tesoro, che dobbiamo fare? Purtroppo o chiamano tutti insieme o chiama nessuno, quindi io non saprei cosa dirti, eh? Non c'è equilibrio oggi, oggi è una giornata squilibrata, eh? Saranno l'effetto dei colori diversi delle regioni, c'è euforia, c'è tormento, chissà, chissà chi lo sa, eh? Bene, Borgonovo l'abbiamo visto, andiamo a vedere quest'opera di Zoran Vladić. Zoran Vladić, questo bel nudo di donna, un nudo molto pudico, nella misura 60 per 50, olio su tela, fatta benissimo, qui c'è una conoscenza del disegno e del colore e anche dell'anatomia umana notevolissima. Costava 1.200 da scontare, oggi si divide per 4 e precipita a 300 euro. Pittore di origine slava che vive opera a Milano. È un pittore più moderno, eh? Che classico. Però è capitata, è una bella opera a 300 euro. Zoran Vladić. 27. Achille Formis. Questa è una Venezia davvero bella, tra l'altro è anche datata a 1896. Pittore che nasceva a Napoli nel 1832 e morta a Milano nel 6. Frequentò l'Accademia di Brera, fece l'Internazionale di Venezia nell'87 e la Biennale Veneziana nel 95. È un'opera meravigliosa questa. Olio su tela applicato a tavola, 60 cm per 30. Sempre proposta a 1.500 scontata, per 2 fa 3.000, diviso 3, 1.000 euro finale. Rivediamo la 21, Gianfranco. La 21 è Francesco Coleman. Tra l'altro ha una cornice pesantissima, il legno massello. Poi il vetro pesantisce pure, l'opera è grande. Bella davvero, eh? 750 euro. Questo è l'affare del pomeriggio. Fine 800. Ultimi anni dell'Ottocento. 7,50. Da 1.500 scontata, per 2.3.000, diviso 4, 7,50. Confermata, grazie. Grazie. Allora, ritorniamo su Achille Formis. Ragazzi, questa a 1.000 euro non si può vedere. Io qui ho trovato su internet, ho scaricato una giudicazione d'asta, che forse riesco a trovare pure. Eccola qua, perché ci sono tutti i fogli mescolati. Che veramente è imbarazzante. Vedete, è un paesaggio, tra l'altro opera è firmata, autenticata, quindi neanche certamente autentica. 19 per 31, battuta a Piacenza il 5 dicembre dell'anno scorso, era stimata 1.400-1.500. 1.400-1.500. Questa è 60-30, non 20-30. Questa era 20-30. Questa è 60-30, te la do a 1.000 euro, datata a 1.896. Non lo so tesoro mio, è uno scorcio veneziano, tra l'altro lui faceva queste misure verticali, piuttosto rare. Però, signori miei, io ve lo posso consigliare, poi il resto dovete pensarci voi. Al 28 abbiamo un'opera di Roberto Nardella, questa deliziosa... Mamma mia, quanto pesa sto quadro. Roberto Nardella è un 50x40 olio su tela, costava 700 euro, diviso 4, 175 euro. Trovali a meno se sei capace. Trovali a meno se sei capace. 100, ho detto che ci sono dei disturbi, tu non ci credi. Non è possibile tesoro mio. Sicuramente, ma è vero. Ma succede, lo dico io. Pomeriggio così doveva mutare tutti. Siccome ci sono dei problemi di ricezione del segnale, del dismi. Allora, ragazzi, questo ha 170, lei si chiama Rose mi pare. Vedi? Che? No, 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 assolutamente. Rose. Il prezzo è 700 euro. Paga pure di più. 175 euro. Hai visto che bello? Buon, andiamo avanti. Storto? Al 29, pittore piemontese, Giuseppe Caffasso, 30x24 olio su tavola. Guarda che bella composizione di frutta e fiori in questo paesaggio. I pittori di una volta del 600 e del 700 creavano queste composizioni. Veramente bella quest'opera. 30x24, la cornice è la sua originale, tutta intagliata. Già la cornice vale una fortuna. l'opera, l'abbiamo sempre proposta, 500 euro scontata per due famiglie. 1000 diviso 3, 333 euro. Meno male che stasera c'ho la pizza, almeno mi ricreo con la pizza. Raffaella, eh? Eh sì, eh? Eh, almeno perché oggi è stato veramente un pomeriggio drammatico, veramente. Ormai grazie a Dio abbiamo quasi finito. Eh? Eh sì, bisogna gratificarsi almeno con una pizza, perché questa è stata un'esperienza drammatica. Meno male che la prossima di sconti la faremo a settembre-ottobre, quindi la distanziamo molto. E insomma, quando vi chiedete lo sconto è morto, gli hanno fatto il funerale. Al 30, Vincenzo Canino. Vincenzo Canino, colui quale partecipò alla prima guerra mondiale. Sul Versanta Solone faceva parte della Brigata Bari, eh? Nel 17, la battaglia del Monte Grappa. Ve lo dico perché avevamo un quadro di questo artista che rammentava quella battaglia. Nasceva a Napoli nel 1892 e morto nel 78. L'opera che state vedendo è una strada di campagna dell'entroterra campano. Misura 18 per 26,5, costava 400 euro scontato per due fotocento. Diviso 3, 266 euro. Vincenzo Canino, firmato in basso a destra, prima metà del ventesimo secolo, anni 40-50. Anni 40-50. Bellissima. Guarda che favola. Vincenzo Canino, signori, se ci fosse un minimo di attenzione, un minimo di pubblico, ma come fate a perdere i quadri di pittori nati nell'Ottocento a 2,33, a 2,66, a 3,33? Formis, un pittore importante a 1.000 euro, Borgo Novo 600 euro. Sono prezzi popolari, prezzi davvero, davvero, ma io ripeto, lo dico per voi, farò l'onora, se Dio vuole, abbiamo finito, pazienza. Non me lo chiedete poi lunedì. Lunedì ci sono tutti altri pittori. Non è che facciamo una volta con lo sconto, una volta senza sconto. Questa è un'azienda seria. Ci sono il chiusore mandato, oggi dobbiamo chiudere i mandati dei committenti che ci hanno dato queste opere. Punto, punta al vicolo, punta a capo. Chi c'è, c'è, chi non c'è, pazienza. È uguale, non cambia nulla. Tanto le opere comunque non sono nostre, né queste né le altre. Quando sono nostre, ve lo dico, i quadri del 600, del 700 sono di Aurora. E' uno di Giacomo Chiossone. Ok? I quadri moderni sono di Aurora. Li rimettiamo di tasca quando abbiamo fatto le follie. Infatti mi hanno stoppato con l'arte moderna, finita. Non ne facciamo più. Quindi queste sono opere vostre che per motivi A, B, C, D, Z, K, i committenti hanno urgenza di monetizzare. Perché è finito i soldini delle esposizioni e non vogliono rinnovare. Allora noi lo dobbiamo riconsegnare a casa. Diciamo, provi a venderlo facendo uno sconto maggiore. Quanto? E si stabilisce il quanto, diviso tre o diviso quattro. Ma più di questi valori non esiste nulla. La tavoletta è Debo, che è bellino il quadro. Vabbè. Ma questo non l'avevamo assegnato? E' ritornato con i piedi qua? Vabbè, oggi non mi meraviglio di nulla. Vespasiano Quarenghi, 40x30 olio, cornice coeva, nasce a Milano nel 1888. Meno male che è finita, manca poco la fine. Nel 1888 muore nel 55. Costava 7,50 scontato per due, fa 1.500, diviso tre, 500 euro. 500 euro è l'opera numero 31. Non c'è il numero perché era stata assegnata, poi ritornata da sola là sopra. C'è anche i piedi, i piedi c'ha il quadro, eh. Mangia, eh. No, scherzo, l'abbiamo rimessa lì perché boh. Non lo so, non lo voglio neanche sapere, basta che finisce presto oggi. Allora, andiamo avanti e c'è Gaetano Vitale, vai. Questo cascinale degli anni 50, lui nasce a Cava di Tireni nel 23, muore intorno alla fine degli anni 90. collaboratore allievo di Clemente D'Afuri. L'opera costava 2.000 euro, la cornice è stata tutta ridorata in foglia oro. Bellissima quest'opera di Gaetano Vitale. Costava 2.000 euro scontata per due, fa 4.000, diviso 4 fa 1.000 euro finale, sì, ho detto bene, 1.000 euro. 1.000 euro scontata, Gaetano Vitale. Va bene, va bene, tranquilla. È vero, mi sto impegnando troppo, fermiamoci. Allora, Gaetano Vitale, 40 per 50, olio su tela. Un cascinale davvero particolare. Al numero 33, Luigi Bergamini, pittore napoletano dell'Ottocento. La tela è dell'ultimo quarto del XIX secolo, misura 45 per 55 ad olio. È un notturno alla fergola, di cui lui è stato grande estimatore, forse anche allievo, gli ha suggerito dei consigli verso fine età a fergola. opera di grande qualità che avevamo pensato in affidamento a una cifra molto, molto, molto piccola che era di 1.500 euro, già scontata ovviamente. Per due fa 3.000, diviso tre fa 1.000 euro soltanto. Pensate, a 1.000 euro quante soluzioni avete? La Marina, che state vedendo, di Bergamini, il cascinale di Gaetano Vitale, e la Venezia di Formis. Poi di qua avete Giovanni Panza a 1.000 euro, la Sanguigna a 1.000 euro. Cioè, con 1.000 euro avete 5, 6, 7 opportunità di acquisizione. Pittori importanti, pittori dell'Ottocento, importanti, ragazzi. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco. 1.000 euro finora. Confermata la 20? Un saluto dall'amico Igino e quale filigrafica tra l'amico Igino è il leto e il vero nazionale. Ah, Igino, sì, sì. I Filippelli. Ha ricevuto, scusa, il leto? I Filippelli. Ah, è Filippelli, sì, sì, il caffiero, quello è bello il caffiero. Complimenti. Complimenti, ha un saluto di vero cuore all'amico Igino, vieni. Complimenti davvero, caro amico. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un sincero abbraccio, ho avuto il piacere di conoscerlo telefonicamente, purtroppo, anche perché io a Roma verrei anche, ma qui, oddio, per lavoro posso anche venire, ma rimango sempre qua, purtroppo. Vabbè, un abbraccio sincero di vero cuore. Però fra poco devo fare anche il vaccino, io torno al 20. Allora, tu fai la seconda. Qui abbiamo una bella campagna innevata di scuola lombarda degli anni 40-50. Qui non pagate neanche la cornice che è barocchetta tutta lavorata. Costava 800 euro, diviso 4 fa 200 euro. 200 euro cash, flash, finale scontato. Guarda che meraviglia. Paesaggio innevato lombardo. Complimenti. Andiamo a vedere l'opera numero 35 di Antonio Manna, in arte Tonino Manna, pittore che nasce in provincia di Napoli, a Sant'Antimo, nel 52. Qui abbiamo anche la foto. Questa è un'opera degli anni 80, del suo periodo giovanile, grande artista figurativo. Eccolo qua. Antonio Manna, Tonino Manna, eccolo qua. 70 per 50 allo stitela costava 1.200. Quanto costava Raff? Quanto costava Raff? Sì, 1.200 mi pare. Costava 1.200. Diviso 4, 300 euro. Poco più della cornice. Giovane popolana col tamburello, col tamburello. Guardavo un film di Alberto Sordi, che non avevo mai visto prima di uscire, piccola posta, con Franca Valeri e c'era il tamburello. Allora, guarda che meraviglia. Fa la parte di uno che ha i debiti con tutti. Col grande memmo carotenuto, che è proprio romano, romano, romano. Bello, è del 55, un film del 55. Esatto, esatto. Ma anche quelli erano tempi di debiti. Tonino Manna. Siamo ritornati un po' indietro nel tempo. Allora, 70 per... Ragazzi, questo è un bel quadro. Questa è una bella giovane popolana. Una zingara, chiamala come ti pare. Però è un bel quadro, guarda che espressione. Ha 300 euro, ragazzi, 300 euro. Ma è firmato, certificato e garantito. Ragazzi, qui esce tutto col certificato di garanzia. Attivatevi, andiamo avanti. Qui abbiamo l'opera di Bruno Tintori, che ho scoperto essere del 71, del 79. Non ho gli occhiali, non ci vedo. Vai vicino, vediamo così insieme. Del 79, mi pare. Giusto? No, del 71, del 71, del 71. Bruno Tintori, nasceva a Livorno nel 17 e moriva nel 91. Quindi questa è un'opera del 71. 50 per 70, olio su masonite, paesaggio lacustre, con il monte nevato. Costava 750 diviso 3, 250 euro. 250 euro soltanto. mai vista una cosa del genere, veramente. Mamma mia, ragazzi miei. Povera Italia. Povera Italia. Povera Italia. Mesmale, mesmale. Al 37, Leone Giuseppe Buono. Leone Giuseppe Buono, il porto di Pozzuoli. 50 per 60, olio su tela. Da 1.500 scontato diventa 3.000. 3.000 diviso 4.000 euro. 1.000 euro soltanto. Lo puoi pagare con 22 euro al mese. Caro mio, 38, scuola lombarda, ultimo decennio del XIX secolo, olio su tela 48 per 42. potrebbe essere attribuito, attribuibile o a Cesare Tallone o a Ombrogio Alciati. E una nobile donna dell'epoca costava 1.500 scontato, per 2 fa 3.000, diviso 3 fa 1.000 euro. Pensate quanti quadri avete a 1.000 euro. Saranno 7-8, c'è questo, c'è Leone Giuseppe Buono, Bergamini, Vitale, Formis e Panza. 6 quadri a 1.000 euro l'uno. Quadri, opere che costano ma molto, ma molto, ma molto di più delle cifre che vi stiamo chiedendo. Eppure è come se foste imbambolati, come se foste, non lo so, quasi, è vero? Così, eh? Non avete, secondo me non si vede, ci sono dei problemi di ricezione del segnale e secondo me sicuramente abbiamo problemi, anche perché una volta la rete quando era più piccola la controllavamo noi. Oggi noi affittiamo lo spazio e come dissero a Nell'Anno del Signore, disse Manfredi, che era un buon signore, a Tognazzi, che era un buon signore, a Nell'Anno Manfredi, che era la voce di Roma, fama a fidasse, eh? Noi fama a fidasse, però purtroppo fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, perché poi ci sono dei giorni che magari il segnale non funziona e non te vede nessuno. Poi uno vede che non si vede, per la giornata via, esci. Allora, qui abbiamo un'opera di Pietro Colli, questo è un bellissimo, guarda il paesino tra i monti del Piemonte, nasceva a Lummonferrato in provincia di Alessandria nel 1891 e morto a San Salvatore in provincia di Alessandria nel 1982. L'opera che state vedendo è della prima metà del XX secolo, misura 45,5 per 56, olio su tela, costava 1.800, 1.800 diviso 3 fa 600 euro, 600 euro soltanto, 600 euro finale. Pietro Colli da Alessandria, bellissimo questo dipinto, guarda. Allora, al numero 40, altro pittore lombardo, Davide Nadalo, Davide Nadalo, anni 60-70, Pasquino, bravo, bravo, era il Pasquino, la voce di Roma, il Pasquino, bravo, 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 nell'anno del Signore, lo so a memoria, bello quel film, e Alberto Sordi quando ferfrate e pentite, e volete pentire? 65 per 92, olio su tela, Davide Nadalo, è un borgo alpino, guarda che bello con le montagne nevate, 1.500 costava, diviso 3, 500 euro. Ecco, vorrei che vi rendeste conto che oggi un privato, se va da un corniciaio, paga 500 euro la cornice, la cornice di legno è tutta scolpita, tirata in foglia oro, misura 65 per 92, se vai a misurare questo, 92 diventa più di un metro, questi sono elementi da 70, cioè ci sono 3,5 metri di cornice, costa soldi ragazzi, noi abbiamo dei prezzi speciali quando ci mandano le opere non incorniciate per favorire i committenti, ma una cornice, un privato come questa la paga 500 euro, tu a 500 euro compri di cornice dipinto, non lo so. Davide Nadalo. Pensa, abbiamo fatto più prenotazioni sabato scorso con i quadri da 20.000, da 30.000. 41, vai, vai. Ve la do io la cura. Qui abbiamo un'opera di Antonio Gravina, Chioggia, Chioggia anni 80, grande artista, nato nel 34 a Napoli e morto nel 2011. La tavola, misura controfirmata, intitolata Chioggia appunto, materica, purtroppo si vede male, se volete vederla meglio ve la inclino avanti ma pesa, quindi a un vostro gesto vi aiuto, differentemente la possiamo ridare anche indietro. Costava 1.800 diviso 3, 600 euro. 600 euro finale, olio su tavola, 60 per 65. Antonio Gravina, i canali di Chioggia. Al 42 troviamo un acquerello di scuola piemontese. misura 45 per 65, il foglio, costava 500 euro diviso 4, 125 euro. Olè! 125 euro finale, 125 euro finale. Al numero 43 troviamo il nostro Signore Gesù Cristo in una stazione della Via Crucis, questa è l'ultima che erano, 4 o 5, le abbiamo regalate delle cifre mai viste. Questa pensate che è andata anche in chiusura mandato, da 1.000 euro scontata viene 333. La cornice alla sua è un'opera degli anni 30-40, olio su rame applicato a cartone mi pare. 1930-1940, olio. Scuola Toscana, guarda che bel quadro. Un soggetto religioso, 333. 333. 333. 333 euro. Per la signora Paola dovremmo rivedere la 42, Gianfranco. 42, scuola piemontese, anni 50, è un acquerello su carta, 45 per 65, a 125 euro scontato. Pensa che spesa ingente, eh? 100, una stampa costa di più. Una foto della Juventus incorniciata costa di più. E' confermata, grazie. E viva 125 euro. Certo oggi fra disturbi tecnici il microfono non funziona, è dura arrivare alla fine, eh? Allora, questo l'abbiamo visto, 43, 46, Luigi Brunone, Luigi Brunone. 80 per 50, olio su tela. Pittore di scuola partenopea, devo dire anche avvezzo alle tematiche di Tafuri. Nasce a Vibo Valenza nel 44, ha studiato a Napoli comunque, quindi ha avuto probabilmente frequentazioni con la scuola di Cava dei Tirreni. Sempre proposta a 2.500 euro, diviso 3, 833 euro. 833 euro finale. del 1992, anche datato. Al 47 abbiamo un dipinto di scuola lombarda, 30 per 40, 1950, 1960. Olio su tela costava 500 euro, diviso 3 fa 166 euro. 166 euro. Sì. Abbiamo fatto più sabato con le robe da 20.000. Ma basta non farlo mai più lo sconto. Mai più, li metti in punizione e via. 48, Federico Alfano. Nella vita essere troppo concessivi, essere troppo buoni, ci si rimette sempre. E quindi io, è tanti anni che faccio questo lavoro, però imparo sempre cose nuove. Adesso me lo ricordo. Metto nel mio taccuino, metto anche questa esperienza. Poi non mi chiedete le chiusure mandato, non mi chiedete i quadri con gli sconti, perché lo sconto viene seppellito alle ore 19. Muore, non ci sarà mai più, neanche mezzo euro. Qui abbiamo un'opera di Federico Alfano, 40 per 50 d'olio degli anni Ottanta. Una natura morta costava 1000 euro, scontata viene 250 euro, perché viene divisa per 4 e non per 3. 250 euro Federico Alfano. al numero 49 c'è un'opera di Riccardo Vozzi, mi pare, sì, anni 50. È un cascinale toscano e non lo sottela, 75 per 55 ad olio. Costava 700 euro diviso 4, 175 euro. numero 50, scuola toscana. 30 per 40 olio su tela, una bella campagna. Costava 450 euro diviso 3 fa 150 euro. 150 euro. I rammendatori delle reti, i rammendatori di reti, i riparatori di reti, i riparatori di reti. Al numero 51 troviamo Guido Tadolini, pittore romano, nasceva nel 1849 e moriva nel 18. 32 per 20 olio su tavola. La sua casa, Rocca di Papa, costava 1.400 scontato per 2 fa 2.800, diviso 4, 700 euro con la sua cornice coeva. Al numero 52 abbiamo un'incisione di scuola romana, acquarellata a mano, Ponte Milvio, intorno al primo decennio del XIX secolo, tra il 1800 e il 1810. Quindi è un'incisione acquarellata a mano che ha 200 anni, 210. L'abbiamo sempre proposta a 500 euro scontata per 2 famiglie diviso 3, 333. Conclude questa piazza di Parigi, 1870-1880, attribuibile alla scuola di Giuseppe Denittis. 50 per 70 olio su tela, sempre proposto a 2.200, per 2, 4.400, diviso 4, 1.100 euro soltanto. 1.100 euro per questa bella Venezia ispirata alla pittoria Denittis. La tela è antica, il telaio è antico, il quadro è giusto. Il quadro è giusto. Non è Denittis, perché non può mai essere Denittis a 1.100 euro, perché Denittis di questa dimensione ci vogliono 150 se non 200.000 euro, forse, ma è anche difficile da trovare. Quindi è una bella Parigi fatta bene dell'800 a 1.100 scontata. 1.000 euro la 37 costa. Guarda che meraviglia, è una delle sei opere a 1.000 euro. Questa ha poco di più, 1.100, possiamo dire 6 più una. Rivediamo la 37. La 37 è Leon Giuseppe Buono di Pozzuoli e questo dovrebbe essere il porto di Pozzuoli. È un 50 per 60 olio su tela, con la cornice degli anni 50. L'opera costava 1.500 scontata, per 2 fa 3.000. 3.000 diviso 3 fa 1.000 euro. No, 1.000 euro, tesoro. Era mercoledì 1.000 euro e oggi 1.000 euro, ha capito, fischi per fiaschi. 7.50 era a Coleman, che è stata assegnata, era il cortile, quello che pesa tanto, non lo voglio farvi vedere. Quello costava 1.500, 3.000 diviso 4, 7.50. Tutte le altre, tutto questo ho detto pure, che costava 1.000, come? Come questa 1.000 euro, come questa 1.000 euro, tutte 1.500 costano, come questa 1.000 euro, come un'altra che sta laggiù di Giovanni Panza, 1.000 euro. Quindi non può essere diviso qua. Poi non è che facciamo il gioco delle tre carte. E 1.000 e basta. Vai sulla 1, vai. Rick Van Kegelberger. Rick Van Kegelberger. Uno si può confondere, perché poi io ci sto anche parecchio sulle opere, però poi mi scoro un attimino, ho un attimo di scoramento e vado avanti, anche perché credetemi, dopo tanti anni, fai una manifestazione con questa, è avvilente. C'è un quadro come questo, per esempio, firmato Rick Van Kegelberger, è un pittore olandese, mittel europeo. La tela misura 70x60, olio. L'abbiamo sempre proposta a 900 euro, diviso 4, 225 euro. Rivediamo anche la 33. Mi pare poco, aspetta, te la porto io. Mi pare poco, mi pare poco. No, no, te vengo io, questo pesa poco. Mi pare poco. Ecco, questo è un quadro dell'800 di Luigi Bergamini, la 33. Quindi scontate viene 2,25 questo. Questo è un quadro dell'800, è un notturno. Scuola Fergola, ultimo quarto del XIX secolo, 1880-1890. La tela è antica, vera. Il telaio pure la cornice è in stile, io sono sincero. Costava 1,500 per 2,3 mila diviso 3,000. Ce ne sono 6 a 1,000 euro, 6 possibilità a 1,000 euro l'una, ragazzi. Tra Leon Giuseppe Buono, Panza, Formis, Vitale e qualcun altro, come ricordo. Fermata, Gianfranco, la 33 e la 37. 33 e 37, va bene. Allora, fai rivedere i fiori, fai rivedere i fiori, a 225 euro, opere degli anni Sessanta, olio su tela, olio su tela. Allora, la 12 è una sanguigna fenomenale del XVII secolo, 1660-1670, 44 per 28, la epoca, non è del 600, però è d'epoca. Costava 1,500, scontata 1,000 euro per 2 diviso 3, e San Giovanni Battista. Mentre la 16 è questa meravigliosa marina di Edgardo Rossaro degli anni 20 del Novecento, con la sua cornice coeva, costava 1,800 per 2, fa 3,6, diviso 4, 900 euro tutto il quadro con la cornice che vedi. Non è che cambiamo le cornici, quelle che vedete a casa arrivano, non è mai successo che abbiamo sostituito o abbiamo fatto vedere una cornice e poi abbiamo fatto vedere un'altra, mai. Questa è la nostra serietà aziendale. Ripeto, io dico sempre, ci tengo, ribadire che a Aurora Arte lavorano professionisti nel settore delle televendite. Oggi dire televendite è una cosa molto generica, perché ce ne sono migliaia, centinaia, ma vere e reali, non arriviamo a 10 forse, vere televendite, fatte da persone che sanno cosa dicono, che hanno coerenza di pensiero, che sanno coniugare i verbi, perché non è che uno affitta lo spazio e mettiamo il primo che passa a fare la trasmissione. Questo è diventato il mestiere più difficile che ci sia. Non è che tu uno viene in televisione e vendi, vendi che? Vendi niente. Tanti cominciano e poi dopo un mesi, due mesi, tre mesi non li vedi più perché sono falliti o sono pieni di debiti fino a qua. Allora, ritorniamo sui fiorellini, abbiamo visto, Van Kegelberg a 2,25. Ecco, questo è un acquerello che io non capirò mai. Piazza delle Erbe a Verona. Boh, non lo capisco perché è un acquerello fatto meravigliosamente bene. È un'opera che ha 110 anni, perché è del primo decennio del XX secolo, misura 45,5 per 65,5. Piazza delle Erbe, piazza delle Erbe. Ad esempio le bancarelle, il mercato delle Erbe, io l'ho visto, ci sono stato mille volte. È abbastanza vicino all'Arena di Verona. Una delle piazze più belle d'Italia, piazza, si è mai stato, Mino? Bellissima, bellissima. Verona è stupenda. Costava 800 euro scontata, per due fa 1.600, diviso 3, 533 euro. È mai possibile dare un acquerello di Giulio Musso, pittore piemontese, nato nel 1851, morto nel 15, a poco più di 500 euro? A poco più di 500 euro? Bellissimo, bellissimo. Signora Daniela ha confermato la 12, la 16 e la 53. Complimenti Daniela, complimenti Daniela. Grazie caro. Non c'è nessun problema, tesoro. Le vedono a casa, le valutano. Io sono il primo a dirvi quando ci sono le occasioni, approfittatene perché poi io non è che sono… Aspetta, aspetta, mettiamo questo in verticale e quello in orizzontale. Dovresti tenerlo, nel senso dovrebbe tenerlo come battuta. Eccolo, li vedi che batte. Cioè, io non è che sono il cerbero di turno, nel senso che… Però quando ci sono… Questa è una trasmissione a vantaggio vostro e allora mi posso meravigliare se vedo che vi passano inosservate poco più di… Cioè, poco più di 500 euro, un'opera che ha 110 anni, fatta bene, ma anche i fiorellini a 225 e quello e quello e quell'altro. Poi è chiaro che poi… Dici, ma c'è lo sconto. Lo sconto c'è oggi, più sconto di così. I prezzi li abbiamo detti tutti. Perché li vedete oggi e non li vedete più poi questi quadri. È chiaro che poi mi fai lo sconto sui rolli. Che te devo scontare? È già scontato. Cioè, il prezzo che esce iniziale è secco scontato. Poi la proprietà può stabilire di scendere. I quadri non sono nostri, non li compreremo mai in un momento come questo. Ci saremmo già rovinati. Chi ha proprietà di quadri poi li vederei, ho bisogno di vendere. Noi non abbiamo bisogno di vendere. Perché i quadri non sono nostri. Certo, questa è una trasmissione che stiamo facendo a favore dei committenti, perché non gli possiamo chiedere altri soldi. Li abbiamo già presi, giustamente. E gli offriamo queste due trasmissioni, quella di mercoledì e quella di oggi. Poi avast proprio. Allora, fai vedere Giulio Musso e andiamo avanti al numero 5, questo delizioso dipinto di scuola toscana. Per certi versi mi ricorda qualche colore di Ulviliegi. È un'opera degli anni 50, 60. Olio su tela, 50 per 40. Confermate la 3 e la 17 che è a cavalletto. 3, 17, complimenti. Perché era la 16? No, la 16 è la, è il rapallo. Edgardo Rossaro qual è? Edgardo Rossaro l'ha preso la signora Daniela. E allora non è la 16? Continua a dirmi a cavalletto? Vieni, allora, aspetta, aspetta. Ma non è, è quella che voleva. Vieni, fallela rivedere, oh. Per la sicurezza tua, la 3 è quella e non ci piove. Eccola qua, Giulio Musso, Piazza delle Erbe. Al cavalletto c'è rimasta quella e poi c'è l'altra nevicata al cavalletto opposto. Questa viene 600 euro scontata, Giuseppe Sposito, pittore napoletano. A Marina non c'è più, tesoro. La 16 è stata confermata. E che dobbiamo fare? Oh. E tutto il pomeriggio, sono le 18 e 30, eh. La prima volta l'abbiamo vista alle 15. Quindi, qui è 15 e 30, eh. Se qualcuno arriva prima. Allora, andiamo a rivedere la 5. Quindi solo la 5. La 3, giusto? Perfetto. La 5 abbiamo detto 175 euro finale. Da 700 euro, 175 euro finale. L'opera di Buono non c'è più, è stata confermata. Tutte confermate. Eh. Dovete chiamare quando ci sono. Prendi una seconda chiamata. C, 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 c. Prendi la seconda chiamata. L'ha presi 2 e sceglierà, immagino. Vabbè, se no non la prende. Fa come te pare. Siccome l'ha presi 2 l'amico, che era indeciso fra Bergamini dell'Ottocento e Leon Giuseppe Buono degli anni 50, immagino sia una scelta. Ci sta, eh. La concediamo. Ci mancherebbe. Non le prendete 12 per pianne una perché non funziona così. Allora, numero 7, William Welters. E questa è una tavoletta che mi manda al manicomio. È bellissima. Qui c'è il mare di Capri, eh. Qui c'è il mare di Capri. Qui c'è il Monte Solaro, questa colonna di un patio probabilmente. E qui c'è un paesino dell'isola di Capri. 19 per 40, olio su tavola. Anni 30, William Welters, pittore di origine olandese, ma è vissuto per tanti anni in Italia. È morto a Bordighera nel 1972. Costava 7,50 scontate. Per 2 fa 1.500, diviso 3. 500 euro soltanto. 500 euro finale. Abbiamo mezz'ora. È l'ultimo giro questo, eh. È probabilmente l'ultimo giro di visione. Siate concentrati per voi stessi. La numero 8. La numero 8. La numero 8. Scuola Lombarda. Scuola Lombarda. 40 per 60. Pensa te. Ero vicino a fare per... Guarda che meraviglia. 40 per 60, olio su tela. Costava 750 euro. Scende a 250. Opera degli anni 30. Davvero gradevolissima. La cornice in stile, ma la tela è d'epoca. Vedi? Una bella tela d'epoca col telaio coevo. 250 euro incorniciata a casa tua, ragazzi miei. Se non è un affare questo, ditemi cos'è un affare. È la numero 8. Non c'è segreto. Il numero 10. Giovanni... Eh certo, sono tornati a casa. 250 euro. Qui abbiamo Giovanni Panza. 55 per 35. Olio su tavola. Certificato ed espertizzato a un periodo del Tribunale. Sempre proposto a 1.500 scontato per 2.000-3.000 diviso 3.000 euro. Ero uno dei 6 quadri a 1.000 euro. Adesso ce ne sono rimasti 3, mi pare, 1.000. La rivediamo se vuoi. Eccola qua. 175 euro scontata. Questa, verticale. Anni 50, scuola toscana. C'è una firma, ma non la leggiamo. Bene. Allora, rivediamo Panza. C'è l'espertise di un perito. Ragazzi, questa, 22 euro al mese, perdete Giovanni Panza? Guarda che meraviglia. Una piazza, un mercato del pesce. E all'angolo c'è questo povero scugnizzo che vende il pesce. E' proprio il cuore di Napoli, il sentimento che metteva il grande Giovanni Panza nelle sue opere. Ragazzi miei. Confermata la 5. La 5 è confermata. Mamma mia, mamma mia. Eh, che dobbiamo fare, tesoro mio. Signori, il tempo sta finendo, lo sconto se ne va. Sotto, Ciro Punzo, un dipinto datato 1877, olio su tela 53 per 27, certificato ed espertizzato anche lui. Certificato ed espertizzato anche lui, costava 1.800 scontato, per 2 fa 3.600, 3.600 diviso 3, 1.200 euro. Bada ben, bada ben che la cornice è la sua originale. Sono paperelle. Sì, sì, sono paperelle che circolano al pascolo. La cornice originale è un olio fenomenale, guarda, telaio coevo, cornice coeva. Anche l'espertise di un periodo del tribunale. Fa un po' te. Ciro Punzo, 50, vi rispondono, vi rispondono, non abbiate paura. E quei due grandi, perché è normale, quei due grandi costano 100 lire l'uno. andiamo a vedere l'opera che segue Giovanni Battista Filosa ma questo è un acquarello bello bello vero, ma avrete chiesto il prezzo in 50.000 persone quando abbiamo fatto trasmissione, sempre proposto a 1.300, oggi 1.300 per 2 fa 2.600 2.600 diviso 3 fa 866 euro datato 1908 a 113 anni sto quadro, guarda che meraviglia, mi fermo perché stanno scoppiando i telefoni tutti ora sono tornati da casa da fuori dai centri commerciali, i centri commerciali sono ancora chiusi, riaprono lunedì guarda che meraviglia questo è bello, dovrebbe essere il giardino del Palazzo Reale di Napoli Giovanni Battista Filosa 1908 è l'epoca 866 euro scontato, ragazzi miei ma mi avete chiesto un miliardo di volte mai proposto a questi soldi ma di che domani c'è antiquariato ragazzi, ma basta e avanza oggi questa, basta e avanza fino a settembre, ottobre prossimo ma non scherziamo poi, appresso ecco, questo dipinto di scuola fiamminga, ci manca pure che la rifamo 50 per un metro olio su tela anni 30 scuola fiamminga sono quattro personaggi in un interno scena di genere costava milleotto diviso quattro fa quattrocentocinquanta euro incorniciato portato a casa tua quattrocentocinquanta questo bisogna consegnarlo c'è il contributo perché a 47 è sempre il ponte il famoso ponte l'ultimo 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 ecco ah vuoi vedere le ultime? e fai vedere le ultime dai fai vedere le ultime poi ritorniamo alla la taverna alle ultime c'è a 10 panza allora qui abbiamo beh gravine grande c'è il nostro signore Gesù 333 non si vede no largo 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 vede vede non ti preoccupare nostro signore Raffa 333 il nostro signore Gesù 166 la scuola lombarda 250 l'orata con i gamberoni se le compri vere costano di più di mare i gamberoni di Gallipoli 175 vozzi 150 la scuola toscana 700 tatolini 333 l'incisione romana dell'800 allargati ecco falli vedere tutti così la signora l'individua comunque il 47 è questo il 47 è questo il ponticello 30 per 40 166 non è che si può prenotare no non più di due signori due a testa massimo non è che uno prenota 24 e poi ne sceglie uno danneggiate i proprietari cercate di avere coscienza che queste persone si svenano regalano le opere cerchiamo anche di fare i loro interessi li stiamo facendo noi gratis cerchiamo di aiutarci uno con gli altri per ritornare a essere una come dire una nazione normale dopo questa tragedia che ha colpito non noi ma il mondo abbiamo capito qual è il quadro ecco no perché non è che in un quadro possiamo stare un'ora anche perché vi siete svegliati tardi ora dobbiamo chiudere alle 7 no no alle 7 devo fare la pizza stasera c'ho da fare allora questa è la 47 ecco 166 euro cioè non è Raffaello Sanzio capito è 30 per 40 d'olio anni 50 questa che dovevo fare perché mi fate perdere tempo a silenzio un corno ragazzi mi sono smottato per 166 euro torna di là la 14 ragazzi ma veramente tolgono il tempo a chi poi le vuole prenotare veramente c'è chi gioca qua allora abbiamo detto scuola fiamminga se c'era la signora Bici vedete che perdo la pazienza me la fanno perdere la pazienza dice Gianfranco è un tesoro la perdo la pazienza perché anche San Francesco D'Assisi che parlava con gli uccellini perderebbe la pazienza con voi qui abbiamo un'opera di Lucien Van Erend sembra che deve comprare Raffaello 65 per 91 olio su tela da 1000 euro 250 euro guarda che meraviglia 250 euro poi la 17 andiamo a rivedere Giuseppe Esposito 70 centimetri per un metro olio su tela da 1800 600 euro finale 600 euro scontato da 1800 che costava lo puoi pagare con 20 euro al mese per 36 mesi al numero 22 Giovanni Colmo da Torino paesaggio che va verso il lago perché qui in fondo si intravede il lago una casetta un personaggio firmato e autenticato dal critico d'arte Zaverio Beldi è un 24-30 ad olio degli anni 30-40 costava 600 euro scontato per due fa 1.200 diviso 3 400 euro bella è anche la sua cornice originale Giovanni Colmo tanto la 10 e la 37 stanno a parire tutte e due non è un problema a 37 non c'è più perché è buono che è stato confermato la 10 sta là fra un quarto d'ora abbiamo finito e ce ne andiamo a casa ma deve essere allora signori io vi voglio bene purtroppo se siete interessati a questo a quello a quello dovete chiamare voi alle 19 finisce tutto domani c'è antiquariato lunedì c'è tutti i pittori diversi pittori che costano non queste cifre 100 200 166 non dite non c'è lo sconto perché poi grido lunedì bene allora al 25 Giovanni Borgonovo pittore milanese la campagna lombarda è un'opera degli anni 30 nasceva a Milano nel 1881 moriva nel 75 è un olio che misura 38 per 46 ad olio costava 1.800 diviso 3 fa 600 euro la cornice è quella dell'epoca con il passepartout ancora in velluto verde con l'etichettina scritto nome e cognome Giovanni Borgonovo è un'opera degli anni 30 del 900 anni 30 40 mi fa venire in mente qualcosa guarda che meraviglia te le porto io te sposta più al 26 Zoran Vladic allora Gianfranco la 11 e la 47 gentilmente bella e bella fai vedere fai vedere Borgonovo li fai vedere Borgonovo la 11 e Ciro Punzo a 1200 euro scontato è questo vieni questo costa 1200 scontato datato 1877 e poi c'è questo che l'abbiamo visto 76 volte per 160 euro lo compro io così non lo vedo più che devo fare questo costa 166 euro scuola lombarda anni 50 60 perché uno poi per 166 euro vorrebbe Tiziano Caravaggio Correggio magari a 166 euro ma fa bene chi glielo fa credere capito poi dici in Italia danno le fregature perché se le cercano dici ma non è firmato a 160 euro incorniciato a casa tua oppure è firmato ci sono quelli firmati che costano qualcosa di più sono tutte e due ad obbio? certo sono tutte e due ad obbio? ma di che stiamo parlando ragazzi? confermate bene Zoran Vladic oggi secondo me più della metà ritornano sì fidati 60 per 50 olio su tela olio su tela costava 1200 diviso 4 300 euro nudo di donna davvero molto elegante nudo di donna molto elegante la 10 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 è Giovanni Panza certificato ed espertizzato 55 per 35 anni 50 a 1000 euro è regalato sto quadro lo scugnizzo che vende il pesce in un angolo caratteristico della zona mercatale di Napoli degli anni 50 bene allora ritorniamo sul nudo di Vladic pittore di origine slava che vive e lavora a Milano meraviglia a 300 euro soltanto a 300 euro finale una passeggiata di salve sembra Franca Valeri quando faceva la centralista mi dì chi è panza l'hanno confermato in questo momento tesoro peccato al 27 Achille Formis uno degli ultimi quadri a 1000 euro scontati datato 1896 è uno scorcio veneziano una calle veneziana 60 per 30 ad olio pittore che nasceva a Napoli nel 32 l'800 è morta a Milano nel 1906 1500 era il prezzo per 2 3000 diviso 3 1000 euro finale 1000 euro finale Achille Formis questo è un bel quadro al 28 abbiamo Roberto Nardella questa dolce fanciulla di nome Rose 50 per 40 d'olio costava 700 euro diviso 4 175 euro finale 15 minuti alla fine 15 minuti al termine non c'è rivincita lunedì ci sono quadri normali sempre a prezzi meravigliosi ma non diviso 3 diviso 4 oggi è stata veramente la fiera della follia pensate che avete perso questa natura morta così bella di Giuseppe Caffasso è una tavoletta degli anni 30 con la cornice tutta intagliata giusta sempre proposta 500 euro scontata per due famiglie diviso 3 333 Giuseppe Caffasso anni 30 guarda che bellino 333 guarda che bella neanche la cornice compri a 333 euro guarda che composizione che composta questa è si è ispirata ai pittori del 600 del 700 che facevano le nature morte nei paesaggi e degli anni 30 del 900 non ha la pretesa Occhio eh poi al 30 Vincenzo Canino 18 per 26 5 olio su tavola confermata la 29 grazie 18 per 26 5 costava soltanto 400 euro per 2 diviso 3 fa 266 euro anni 40 50 del 900 18 Vincenzo Canino me ne ho dati tantissimi di questo pittore a 6 7 800 euro questo 266 il più economico della storia di Aurora Arte al 31 questo grande artista milanese Vespasiano Quarenghi anni 30 40 per 30 con la sua cornice originale col vellutino l'intagliata il salva cornice costava 7,50 scontata per 2 fa 1.500 diviso 3 500 euro certamente sì eh te credo quello si spedisce facile guarda che meraviglia guarda che meraviglia eh sì 500 euro 24 euro al mese dai che ce la fai forza 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 molto bene secondo me guarda che meraviglia come il grande Mario il tuo amico al 32 Gaetano Vitale questo cascinale degli anni 50 lo nasceva a Cava di Tireni nel 23 morto alla fine degli anni 90 con la cornice tutta ridurata in foglia oro meravigliosa opera di Gaetano Vitale costava 2.000 euro per 2 fa 4.000 diviso 4 fa 1.000 euro soltanto un altro di quei quadri a 1.000 euro a 1.000 euro rimasto il Formis il Vitale e la figura di donna dell'Ottocento al 33 troviamo Tonino Manna vai vai andarete non ho capito niente qui abbiamo un dipinto di scuola lombarda degli anni 40 50 e un olio su tavola 40 per 50 bella la cornice costava 800 euro diviso 4 200 euro ma li guardate che dipinti perdete a 200 euro parli da sola guarda che meraviglia guarda che meraviglia hai visto che favola 200 euro al 35 Tonino Manna 70 per 50 lo su te la costava 1.200 diviso 4 300 euro guarda che meraviglia opera degli anni 80 lui nasce a Sant'Antimo a Napoli nel 52 bella popolana Zingara prendi questa mano Zingara dimmi pure che destino avrò manca 10 minuti e ce ne andiamo a casa a 26 sta bene lì tesoro non sono mica nostri i quadri che ci voglio dire al 20 al 36 Bruno Tintori datato 1971 79 poi piglio gli occhiali 50 per 70 olio su masonite costava 750 euro diviso 3 250 euro e un pittore più moderno occhio bella guaderna secca diventiamo ricchi non ho capito niente dimmela 26 c'è sta 48 c'è sta c'è sta 35 c'è sta sarà 1000 euro tutti grossomodo costano uno meno dell'altro riempie una casa con 1000 euro al 38 è uno dei quadri rimasti a 1000 euro ancora questo olio della scuola lombarda attribuibile a Cesare Tallone e Ambrogio Alciati è una bella nobile donna lombarda dell'800 la tela misura 48 per 42 ad olio la cornice è in stile ma fatta molto bene tutta in foglia oro la tela è ovale vera la tela è davvero ovale non è racchiusa in un ovale proprio ovale vera la cornice è in stile costava 1500 scontata per 2 fa 3000 diviso 3000 euro 1000 euro finale l'hai confermato o no? mi ripete perché non me li ricordo più il signor Mario ha confermato la 26 la 35 la 26 il nudo di donna poi 35 35 la gitana la zingara poi il nudo di prima è disponibile mi hai detto non me ne è mica passata se tu non me lo dici allora questa non c'è per Giovanni questa era stata confermata e io non lo sapevo perché è rimasto lì infatti mi hanno detto ma è stata confermata ho detto no fanno ecco 48 e 49 48 e 49 e fin lì ci arriviamo quella purtroppo non c'è più questa è un bel quadro un quadro antico vero 1890 è l'epoca 1890 è l'epoca questa è una delle ultime opere importanti a solo 1000 euro ragazzi ve li stiamo regalando i quadri poi al 39 c'è questo meraviglioso paesaggio verdeggiante delle Alpi Piemontesi di Pietro Colli Pietro Colli da 1800 600 euro finale da 1800 600 euro scontato e ora lo sposto poi la tela misura è un fuori misura 45 per 56 ad olio 39 45 per 56 ad olio 45 per 56 a 600 euro al 40 ma questa non c'è più Davide Natalo Davide Natalo Davide Natalo 65 per 92 questo paesaggio nevato di scuola lombarda anni 60-70 firmato Davide Natalo costava 1500 diviso 3 500 euro il greggio di pecorelle che esce dal paese va verso la valle attraversato il paese il pastore col greggio di pecorelle bel quadro questo firmato anni 60-70 non è antichissimo però è grazioso ragazzi a 500 euro ma manco la cornice pagate Natalo dai 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 Davide Natalo numero 40 è l'opera al 41 Antonio Gravina purtroppo questo è un quadro penalizzato dai suoi riflessi che Antonio Gravina è un grande era un grande purtroppo è morto nel 2011 60x65 allo sul tavolo costava aspetta che te lo inclino tanto abbiamo finito sotto non c'è più il quadro questo è un quadro stupendo oi 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 Chioggia Chioggia vicino Venezia vedi com'è bello 60x65 ad olio sono delle barche di pescatori nella laguna di Chioggia da 1800-600 euro trova un'opera così grande di Gravina neanche i 20-30 compri a 600 euro signori cari vabbè 600 euro scontato poi mi dispiace molto che non sia stata confermata questa stazione della Via Crucis di nostro signore Gesù 40x30 ad olio scuola toscana anni 30-40 costava 1000 euro soltanto 333 euro finale noi abbiamo terminato manca un pugno di minuti 5 minuti 6 minuti al termine se volete vedere rivedere guardare osservare qualcosa fatelo immediatamente perché il tempo è praticamente esaurito al 46 abbiamo Luigi Brunone gli scugnizi che vendono l'anguria il cocomero 80x50 olio su tela costava 2.500 diviso 3 833 euro scontato pittore nato a Vibo Valenza nel 44 ma scuola partenopea ancora vivente ma non più operante al 50 quel bel paesaggio toscano 30x40 ad olio 30x40 ad olio proposto a 450 euro diviso 3 150 euro scontatissimo sotto abbiamo invece Giulio Tadolini pittore romano 32x20 cornice coeva datato intorno al 1906-1908 1905 circa la sua casa la scala di casa Rocca di Papa i castelli romani era proprietà di un ingegnere architetto è una tavoletta antica costava 1.400 scontata per 2 fa 2.8 2.8 per 4 diviso 4 fa 700 euro 700 euro finale sotto l'ultimo dipinto rimasto è questa incisione di scuola romana del primo decennio del XIX secolo 22x31 500 euro il prezzo per 2 famiglie diviso 3 333 euro Ponte Milvio a Roma incisione acquarellata a mano un'opera che ha 210 anni vedo che grossomodo avete come si dice raggiunto la tranquillità la pace dei sensi e quindi io direi che siamo prossimi ai saluti vediamo quello che mi dispiace che non avete confermato la nevicata di Nadalo per esempio questa nevicata a 500 euro per esempio questa andava confermata questa figura femminile è meravigliosa l'altro sembra un quadro del 700 non lo è magari qualche furbetto ve lo venderebbe per il XVIII secolo io vi dico che ultimo decennio dell'Ottocento a 1000 euro portata a casa tua anche a rate è un regalo come Pietro Colli a 600 euro questo va beh simpatico anche questo Gaetano Vitale a 1000 euro Gaetano Vitale a 1000 euro anni 50 Vespasiano Quarenghi a 500 euro Canino a 266 Achille Formis a 1000 euro 1896 datato Giovanni Borgonovo a 600 euro Giovanni Colmo a 400 euro Giuseppe Sposito a 600 euro sono dicendo i prezzi già scontati non è più tempo di dire costava quei due non l'ho capito i 4,50 e i 2,50 i quadri grandi sia la nevicata 2,50 l'interno di Taverna la scena di genere 4,50 non ho capito neanche questo meraviglioso acquarello di Giovanni Battista Filosa a 866 euro datato all'anno 1908 e poi non ho capito la capri di William Welters devo dire che comunque molte opere sono state confermate 3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25 25 opere ancora restanti beh, beh 25 Grazie. Due minuti alla fine, due minuti al termine. Questa natura morta con i fiori pensa a 225 euro. Non ci si crede. 70 per 60, olio su tela. Eh, ci vorrebbe passione, eh? Eros diceva ci vuole passione, non deve mancare mai, non dovrebbe mancare mai, dai. Un minuto, un minuto allo scadere, un minuto allo scadere, un minuto allo scadere. Un minuto allo scadere, un minuto allo scadere. Un minuto. 37 da Moco è confermato. Tutti vogliono, Leon Giuseppe è buono. E ho capito, ma alle 16 era disponibile, eh? Era là. Alle 16 era disponibile, l'hanno visto tutto il pomeriggio, aspettano un minuto prima. Eh, tesoro, te la cerchi? Tela? Tela, tela? No, se l'ha visto non è rientrato ora. Eh, perché è già un po' che l'abbiamo staccato. Sarà un'oretta. E ho capito, io me lo metto qua però. E da qualche parte mi devo pur mettere per salutare. Larga è la foglia, stretta è la via e il tempo è finito e sanniamo via. Io capisco che oggi è stata una bella giornata di sole e siete usciti tutti. Infatti, le prime due ore abbiamo raccolto i fiorellini, io e Raffaella. Poi è chiaro che più tardi, ritornando a casa, c'è stata confusione. Comunque, quello che è importante, il risultato finale, devo dire, nella seconda parte, insomma, la trasmissione, almeno per i committenti, insomma, noi abbiamo sacrificato la trasmissione con questa scontistica e i committenti che si sono sacrificati a regalarvi le opere hanno almeno tratto beneficio. Io vi auguro una buona serata, ringrazio e saluto Raffaella. Grazie a te Gianfranco, una buona serata a tutti da Raffaella. Molto bene, ringrazio Mino, la parte tecnica. Vi ricordo domani mattina, ore 10, sarete in compagnia di Cristian Sidella con una trasmissione dedicata all'altissimo antiquariato, quindi vi consiglio di seguirci. Noi ci rivediamo lunedì con la pittura dell'Ottocento, tutte opere diverse, tutte opere sempre a prezzi meravigliosi, ma non certo più con questi sconti, questo è ovvio. Vi abbraccio forte, vi auguro una buona serata, grazie e rivederci alla prossima. Ciao. 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 Ciao.